Sono molto contento che la Lombardia l'abbiamo massacrata Tanto ci tengo a dire che sono Lombardo E non siamo ancora arrivati a Napoli Non so che succede tra un po' Buonasera a tutti e buonasera a tutti Benvenuti alla puntata numero 168 di Tintoria Applauso E vai Alla mia destra la co-conduzione Stefano Rabone Ragazzo carino Viene meglio in foto che nella realtà Lo devo dire perché nelle foto profilo non si sa che sembra Poi comunque niente male però Mi dicono che sembro più grasso dal video Invece quando mi vedono sono Ah vedi ma se invece sei Un figurino Sì così mi dicono Mi dicono tutti così Che devo fare Ragazzo Ma anche se mi vedete grasso sono Un bel corpo Non che chi sia grasso non abbia un bel corpo Però un po' sì dai Male male No vabbè dai Rispetto a Vabbè ma non facciamo subito Boti scemi Hai cominciato Siamo al secondo venti Subito ti sei ficcato in un buco nero Esatto Esatto No Viva i corpi di tutte le forme Sia belle che grasse Possiamo Bravo bravo Ti sei salvato in calcio d'angolo Ne sei uscito alla grande Scusate amici Robusti Scusate Sempre peggio Non so come uscirne Scusate amici mostruosi Scusate scusate Mi scuso Mi scuso Fine Vabbè sei partito Maluccio Però non c'è problema Questa è una puntata che facciamo oggi per farci dei nemici Possiamo dirlo Diciamo Per farci numerosi nemici Esatto Perché comunque numerosi nemici Equivale Equivale A numerosi Onori Diciamo Dai Esatto Cominciamo anche con l'apologia C'è malissimo Poi c'è l'ospite Siamo sempre a snodo Siamo sempre prodotti da The Comedy Club Come stai? Come sto? Tutto come stui Stai Eh Ti ricordi? Come stai? Bene Ho finito il tour Quasi Bravo 2 luglio bra Unica data all'aperto Poi finito il tour So contento Però Quindi adesso Se volete vedere un mio spettacolo Dovete Andare su YouTube Sul canale Daniele Tinti E vedere Dilemma Mettere like Iscrivervi al canale Cioè manco è finito il tour Già c'ho l'horror vacui Che Ho finito di fare sta cosa Vedetevi lo spettacolo di Tinti Sì Come Io no Sono un po' stanco Perché sono Tornato oggi da Milano Che ho fatto Il programma della Gialappas Cioè? Ho fatto il programma Non l'hai visto? Ho fatto il programma La Gialappas? La Gialappas La Gialappas Band Quella di mai dire? Ma che cazzo dici? L'ho fatto Te l'ho detto pure Te l'ho detto Ho fatto pure il post Ho fatto la Gialappas Qua io fuori Ma che cazzo stai a dire? Eh Ma dove l'hai fatto? In televisione Su TV8 Non l'hai visto? No Ma almeno te Cioè Cioè Porco giù E' andato pure bene Cioè Facevo pure Pure un personaggio Ma che cazzo Ma cioè Che fa Eh facevo il portavoce Della destra Era pure Ah quindi bellissimo proprio Eh C'era pure un busto Cioè No Era proprio fatto apposta Per piacerti Cazzo Mi dispiace Eh vabbè Mi dispiace tantissimo Te lo potevi vedere no? E che cazzo ne so Ma non me lo posso rivedere In qualche modo Ci sarà un modo No Non c'è Perché è andato in onda E quello Fai in onda E poi non te lo puoi vedere Eh certo La televisione è proprio così Nel 2023 soprattutto Cioè Ma scusa Cioè Se me lo voglio rivedere Solo sta cosa Eh no Cioè C'è stata la replica Però magari chi lo sa Quando muo la fanno La fanno tra un mese Che ne so In casa Sì poi sicuro Quando in onda Chissà quando Tipo 10 e mezza Eh sì sì E niente Ma scusa Perché non la vi Cioè Che stai a fare Domenica sera Che te sei visto Eh Mi stai a vedere una cosa Su NordVPN Ah E che te sei visto L'ultima puntata di Kashmir Ah vabbè Sì E com'era Bella Bella Sì comunque L'ho vista Su NordVPN.com Slash tintoria Eh Così Stavi sicuro Stavo sicuro La velocità Non è rallentata per niente Nessuno mi poteva Intercettare Sai che Se guardi Kashmir Ti prendi virus Di solito Invece Lo sanno tutti Invece con NordVPN Non ti riprendi Sono andato Il link in descrizione Nella puntata con Lillo E mi sono visto Madonna che coupon E mi sono visto L'ultima puntata di Kashmir La prossima volta Vedi La domenica prossima La fanno Basta Prendi il telecomando E basta un click Se basta un click Così E vabbè Eppure Eppure a soggiro Siamo fatti i soldi Esatto Beh non è certo Grazie Ai dati Auditel A cui non ho contribuito Sì Mi dispiace questa cosa Che siamo arrivati Alla puntata 168 Non è neanche Alla Nostra attenzione Alla body positivity No Siamo arrivati E con nostra Intendi tua Perché Che salutiamo Chiedo scusa Di nuovo Comunque Esatto Comunque posso Io da picco Verro cicciottello Quindi posso dire Posso dire queste cose No Non posso più Non lo so Fai tu Oramai sei Vabbè Hai preso questa strada Vabbè Scusate Vabbè Grazie Grazie agli ospiti Che sono molto migliori di noi Umanamente E professionalmente E professionalmente Dicevo poco Umanamente anche Però sono straordinari Vabbè Pure questo Sembra una presentazione Grazie agli ospiti Eccezionali Che abbiamo ogni volta E quindi Senza ulteriori indugi Vado a presentare L'ospite La puntata numero 168 Di Tintoria 168 Signore e signori Per favore Un applauso Per Alberto Grandi Prego Buonasera Benvenuto Grazie Grazie a voi Dall'invito Grazie a te Per essere venuto E Anche della birra La birra Anche della birra C'è anche una birra Diversa da quella È diversa Sì Questa è una Weiss Ah beh Buona Va bene Sì sì Per fortuna Stefano Si era Vado io No no Presentiamo Facciamo una presentazione Professore universitario A Parma Nessuno è perfetto Autore del libro Che Stefano adesso Fa anche vedere Sì Di libro e podcast Che si chiamano entrambi DOI Cioè denominazione di origine Inventata Quindi professore Sì Del Associato Presso il dipartimento Di scienze economiche Dell'università di Parma Dove insegna storia delle imprese E storia dell'integrazione Europea E quindi Il podcast DOI Diciamolo Sì Realizzato anche con Daniele Soffiati Sì Importante Ci tiene Daniele Salutiamo Danielone Quindi A scanso di equivoci Tu sei un professore Universitario Certificato Che insegna Quindi lo Stato Ti riconosce come tale Perché ora Mi paga anche Ti paga Mi paga Quindi Le cose che diremo Sono Uffici Non è che ti abbiamo raccattato Diciamo In una delle cose No Sei una persona Seria Laureata Sì Ok Perché poi spesso Nonostante questo C'è stata un'intervista Che hai fatto Per il Financial Times A cui hai seguito Un casino Ma allora Noi diciamo Che intanto Noi ti abbiamo conosciuto Tramite il podcast DOI Che era stato Francesco Costa Ne aveva parlato In una puntata di Morning Ha detto Sentitevi sto podcast Noi abbiamo sentito Effettivamente Podcast molto bello Molto interessante A cui hai seguito Queste interviste Del Financial Times A cui hai seguito Un macello Tutiferico Perché Cioè Che cos'è Che hai detto Qual è la Cosa sostieni Esatto Perché è difficile Lo diciamo noi Però se lo diciamo noi Lo diciamo sicuramente male Qual è la Basta Fini la domanda Sì Non è Non l'ho capito La domanda Però Non sono sicuro Che se la dico io Sia meglio Però ci provo No Nella sostanza Io quello che dico È La cucina italiana È buonissima I piatti italiani Speciali italiani Sono buoni Però Sappiate che gli italiani Fino a 50 anni fa Hanno mangiato Poco e male E la nostra cucina Era una cosa Della quale Non si andava Particolarmente fieri E Anzi Poi Se si va ancora più indietro Nel tempo Gli italiani Mangiavano pochissimo E malissimo E quindi Tutta questa storia Questa origine Questa mitologia Della cucina italiana Sono sostanzialmente Inventate Recentemente Sia In buona misura Anche i piatti Ma sicuramente Tutta la mitologia Che ci sta dietro Il tema forte Cioè la cosa che Io abito a Mantua Ma insegno a Parma La cosa che ha scatenato L'inferno È quando io dico Che il vero parmigiano Si mangia nel Wisconsin E lì Lì proprio Inaccettabile Inaccettabile Allora Mi segnalano alla regia Se puoi Ah ok Scusa Scusa Sono pigro Partiamo da questa cosa Il vero parmigiano Si mangia nel Wisconsin Perché Perché Cioè io Ragazzo italiano Dico Eh no Il vero parmigiano Si mangia a Parma A casa mia Lo compro al supermercato Però viene da Parma Allora Allora Il parmigiano C'ha 800 Ne parla boccaccio 900 anni di storia Va bene Poi Posso diventare noioso No Non devo diventare noioso No 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 Puoi essere quello No 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 Vai 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 Sì sì Non voglio essere noioso No comunque Quindi non vi annoio C'ha 900 anni di storia Però Sostanzialmente Fino a 50 anni fa Era un prodotto Completamente diverso Da quello che mangiamo oggi Erano Formaggi Di forme di 20 25 chili Tutte nere Molto grasso Il formaggio Non era particolarmente Cioè non era quello Che mangiamo noi oggi E poi nel frattempo Si è evoluto Invece Il famigerato Parmesan del Wisconsin Che viene sempre citato Quando si parla Di Italian sounding In realtà Il Parmesan del Wisconsin È un prodotto Che è nato Circa 100 anni fa Da emigrati italiani Che hanno prodotto La Wisconsin The dire state Quindi è lo stato Dei latticini Quindi c'è abbondanza Di materia prima E hanno cominciato A produrlo E l'hanno prodotto E continuano a produrlo Come si faceva Dalle parti di Parma Reggio Emilia Insomma quelle zone lì Ancora 100 anni fa Quindi la mia No provocazione no Cioè la mia analisi è Se noi volessimo mangiare Il parmigiano Dei nostri nonni Dobbiamo andare Nel Wisconsin E non a Parma A Parma si mangia Un prodotto straordinario Ma che è stato Inventato Comunque profondamente Modificato Negli ultimi 50 anni E chiaramente Questo è inaccettabile E questo Questo però No è davvero incredibile Questa cosa qui Perché Dopo l'intervista Allora Il consorzio Il parmigiano Reggiano Ha chiesto Che l'università di Parma Mi licenzi Che Che è una Che non credo Che sia Nelle corde Cioè può essere Però insomma è difficile Però può succedere Però secondo me Non per una cosa del genere È difficile Sto cercando consenso Sì sì Cercando conforto È molto bello Che in America Si può essere licenziati Se si fa Un commento Non Progresista Un luogo Esatto Una questione magari Raziale O di genere O LGBT In Italia invece Se osi Presentare dei dati storici Sul parmigiano Pogliamo la sua testa Quindi potrei Toccare Fare Manomorta Con una studentessa E non è pericoloso No in Italia Però Se parlo Del parmigiano Però non lo fare No 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 Non lo faccio Non lo faccio No no Ovviamente Anche perché C'è mia moglie In ascolto Quindi sarebbe un po' Preoccupante Quindi non lo faccio Preferivo Quando c'avamo Chiedere del parmigiano Assolutamente Però allora Il consorzio del parmigiano Chiedere E poi fa un comunicato Per spiegarmi La storia del parmigiano Cosa che ovviamente Sapevo già Dato che il mio mestiere È studiare la storia Dei prodotti E della cucina E poi Succede Insomma La col di reti Poi Salvini Cioè mi hanno un po' Non so Lui proprio Era in prima linea Sul cibo italiano Ci ha fatto una campagna elettorale Fulgorante Era basata tutto Su lui che mangiava Di fronte alle crocifizie Di tutto Era proprio una Sì 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 Era un trend fotografico Che ha funzionato Perché quella era La campagna che andò bene Eh no no Infatti E quindi Mi ha attaccato Salvini La col di reti Il consorzio del parmigiano Beh dopo poi I colleghi Insomma Altri giornalisti A Napoli Mi hanno dato Del terra piattista Perché ho detto Che la pizza Che la pizza È più americana Che napoletana Certo Ecco Quindi adesso Cioè siete te Roberto Saviano Che quando girate Dove avrebbe bisogno La scorta Ma fra l'altro Fra l'altro Quando è uscito il libro Che è di cinque anni fa Nel libro ci sono due righe Ma due Sono 180 pagine Due righe Sulla carbonara Sì E Piero Angela Cioè Quark Super Quark Ha fatto la recensione Del libro Tutta sulla questione Della carbonara E Cioè Tutte le altre 179 pagine Erano irrilevante Piero Angela ha fatto la recensione Contro il libro Per la questione No 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 Invece In realtà Ha scomodato anche Sua Sua santità No 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 In realtà Mi dava ragione Piero Angela Mi diceva No no La storia Della carbonara Non è quella Che normalmente Viene raccontata E Il giorno dopo Mi ricordo Che l'ho intervistato Per tutta un'altra cosa Da un giornalista romano Che Per poco Non mi picchia Però In realtà Nel libro Io ne parlo Due righe Non dico niente Lo dico qua a Roma Perché Ti apposso dire No Puoi dire Sì No ma ormai È sdoganata Questa cosa qua Ormai È sdoganata No ma guarda Guarda questi Già sono pronti È sdoganata Io cerco sempre Conforto in te Sì Io sono una persona Adatta Io ho già cominciato Dando dei ciccioni A tutti Sono una persona Meno adatta A fare questa cosa Oggi siamo antagonisti Questa cosa La carbonara Per esempio Ecco vedi Già rompone Pienti Pronti ad assaltare Il palco No Beh ma insomma La carbonara Ormai si sa L'hanno portata qua I soldati americani Ormai L'anno scorso La barilla Per il carbonara day Ci ha fatto un filmatino Col soldato americano Che porta le uova E il bacon Ormai Quella cosa lì Credo che Sì Anche la barilla Ammette questa cosa Come? Anche la barilla Sì anche Perché la barilla Che è quella Che ha inventato Il carbonara day Ah giusto Che è un brand Però storicamente Tradizionalista E invece ha detto No Sono stati gli americani Tradizionalista E infatti quest'anno Addirittura ha fatto La carbonara Inclusiva Senza il maiale C'è stato C'è tutto un filmato Un filmatino Dove appunto Ci sono queste famiglie Tanto a loro Che gli frega Se prendono la pasta Infatti un miliardo di euro Sai cosa Gli frega loro Giusto Infatti la cosa bella Che esce fuori Da questo libro Anche dal podcast È che praticamente Cioè in Italia Non c'era la cucina Che abbiamo oggi E in America Si sono incontrati Gli espatriati E hanno Per la prima volta Cioè gli italiani Si sono visti là Che non si vedevano No è esattamente così Il piatto Proprio quello Quello che uno dice L'Italia La pizza E la pasta Ecco La pizza Vabbè No 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 Però sulla pasta La pasta era Effettivamente I maccheroni Erano Un Tipo di alimentazione Specifica Di Napoli Ma fuori da Napoli Non la conosceva nessuno In Italia La conoscevano Di più fuori Dai confini nazionali Perché la pasta È stata esportata Molto precocemente E quindi Quando sono arrivati Gli italiani in America Gli americani La pasta La conoscevano già Dopo La usavano come contorno La cuocevano male Insomma C'era tutta una serie Di questioni E poi gli italiani Gli italiani Che non sono napoletani Cioè tutti gli italiani Che non erano napoletani Scoprono la pasta In America E poi Diventa il piatto Perché Costa poco È facile da conservare È facile da preparare Cioè C'ha tanti vantaggi E quindi diventa Il piatto Degli italiani in America Poi diventa Il piatto Degli italiani in Italia Ma dopo però Quindi gli italiani Che erano andati in America Che tornano in Italia Dice Oh non hai capito Che stanno a fare A Napoli A New York Guarda qua Esatto Più o meno È successo così E in più La si può adattare a tutto Cioè Hai del pomodoro Buttaci sul pomodoro Hai dei meatballs Buttaci sui meatballs Quindi È molto tuttile Ed è un po' La nostra La nostra questione Che però la pasta Non nasce in Italia O sì Allora Sì Dobbiamo farci odiare No Allora Togliamo di mezzo La questione di Marco Polo Che non c'entra assolutamente nulla Con la storia della pasta Non è lui che la porta dalla Cina Sono gli arabi E infatti Il primo nucleo Del pastificio italiano È la Sicilia Poi in Sicilia Un po' sparisce Invece Sopravvive a Napoli Nel corso Del 500 Soprattutto il 600 Dopo la peste Per motivi fiscali Tant'è vero che tutti gli italiani Ridono di questa cosa E chiamano i napoletani Mangiamarchiaroni E quindi Perché appunto Li prendono in giro Per questioni fiscali Che questioni fiscali? No 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 È una domanda Queste sono le domande Che mi fanno i miei studenti Io pensavo Io fui studente Di scienze politiche Io sono lavorato In scienze politiche Anch'io Quindi No Perché Perché Dopo la peste Del 1630 Fondamentalmente Tutti gli stati Sono abbastanza affamati Di soldi Non che prima Della peste Non lo fossero Però Dopo lo diventano Ancora di più E quindi Il mercato Dei cereali Diventa È come la questione Che poi succederà Dopo l'unità di taglia La tassa sul macinato Quindi Cioè diventa Molto conveniente E facile E Abbastanza Frequente Tassare i cereali Perché sono La base Dell'alimentazione E quindi E quindi A quel punto Diventa importante Per i produttori Di grano duro Del sud Avere un mercato Di sbocco Facile Sicuro E quindi Una pasta Più o meno Questo è Poi Ma perché Siano maccheroni E poi Sarebbero gli spaghetti Gli spaghetti Sì Spaghetti è una parola Che è quasi più americana Ecco Questo è un altro Di quei casi Perché Noi li abbiamo sempre Chiamati maccheroni Se vi ricordate La scena Di Lili il vagabondo Ah no Pensavo Quella con i Meatballs Dove ci sono I due cani Che poi alla fine Si baciano Lì c'è Appunto il cuoco italiano E dietro Vedete la scritta Spagetti Perché non è scritto Spagetti Ma è scritto Spagetti Perché è un modo Degli italo-americani In realtà Più che degli americani In senso stretto E però perché ha preso Più piede quello Perché io mi ricordo Anche Alberto Diceva maccherone Infatti non capito Esatto Esatto Quello è uno spaghetto Palesemente uno spaghetto Ma Secondo me Per questioni commerciali Perché Come Come ho già detto Altre volte I nostri produttori I nostri pastai Buitoni Si può fare pubblicità Sì 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 Preferiamo Mai l'abbiamo fatta Pubblicità senza prendere soldi È il massimo Adesso devo imparare Questa cosa No Buitoni e Barilla Sostanzialmente Ma non solo Ovviamente Hanno Trovano più facilmente Sbocco Per le loro Produzioni in America E quindi Il nome spaghetto È più Sono al consumo Degli italo-americani Ma poi degli americani In generale Tant'è vero che appunto Disney mette Spagetti E non spaghetti Quindi poi Una volta che si torna indietro A quel punto Il nome commerciale rimane Quindi spaghetti Ha questa Un po' Questa Questa origine Più Più commerciale Che Che culturale Si può dire È una cosa così Si 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 può dire Io ho bisogno Di confronto No 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 Noi siamo dalla tua parte Solo noi Tutti loro sono Animali Devi considerarli Si si Sono i miei Noi se si può Se si può rompere Questa cosa Della Della sacralità Del cibo Siamo solo contenti Perché c'è C'è questo Non sappiamo Perché c'è questa Cosa che il cibo È vista come Una Una sorta di divinità Cioè non possiamo Toccarla Che subito C'è Perché Perché siamo così Perché Perché siamo così Rompicoglioni Non c'è un altro termine Che se uno Fa la pasta In Mozambico E ci mette la panna Non devi mettere la panna Ma che cazzo vuoi Ma quello sta in Mozambico Fai e metti La panna No perché Non ci va Ci va In cacio Ma perché Perché siamo così No E fra l'altro Perché lo siamo diventati da poco Perché poi alla fine Non eravamo Noi italiani Siamo come Jessica Rabbit Cioè adesso siamo Ma in realtà Non eravamo così Cioè ci disegnano così Però è diventata davvero Una cosa incredibile Quando appunto Il governo australiano Aveva chiesto Le 250.000 dosi Di AstraZeneca Nel gennaio 2021 E l'Italia non le ha consegnate E il governo ha risposto Un filmattino Dove prendevano le linguine Le spezzavano a metà Poi facevano un sugo Con la panna E dice Le chiameremo carbonara Fino a quando Non ci porterete Non ci manderete Le 250 Perché diventiamo Delle macchiette Sì Allora Perché siamo diventati così Vuoi una risposta Politica corretta No Fai quello No Perché Perché non Perché non Non ci siamo più Cioè come Italia Non ci siamo più Dopo l'uscita Dell'intervista Financial Times Ha fatto un articolo Molto bello The Guardian Dove dice Agli italiani Sono rimaste due cose Il calcio E il cibo E la cucina Il calcio Gli ultimi due mondiali Non vi siete neanche qualificati È vero che lo dice un inglese Dopo che gli abbiamo fregato L'europeo Là Però Vabbè Lo stesso Però Dice Il calcio Siete messi male Quindi vi è rimasto solo la cucina Ci è rimasto solo la cucina Credo che un po' sia così Un po' sia così Ma Se posso essere serio Sì No Perché Una delle accuse Che sono state mosse a me Dopo l'intervista Dei Financial Times È Ma tu stai Danneggiando Un'industria Un'attività economica Che vale 500 miliardi 500 miliardi È una cifra astronomica Perché il pilo italiano Sono 1900 miliardi Nel 2021 Il 26% Del pilo italiano È Il cibo Non sta da nessuna parte È una cifra completamente inventata Ma che hanno rilanciato tutti Cioè quindi noi Abbiamo Un'autorappresentazione Completamente distorta Noi ci raccontiamo In maniera sbagliata E diciamo Noi pensiamo di essere Una cosa Per cui Siamo un grande orto Che produce Prodotti straordinari Per un ristorante Dove tutto il mondo Vorrebbe mangiare No Non è così Sì La cucina italiana è buona Tutto quello che vuoi Però Essere così intransigenti È ridicolo Secondo me C'è un problema Di autorappresentazione E un problema Di identità Cioè l'Italia Ha una crisi Sta attraversando Una crisi di identità Forse alla mezza età Non lo so Infatti Questa la devo leggere Perché non me la ricordo Tu hai detto la frase Noi confondiamo L'identità Con le radici Sì Questa è un po' La È un po' Il filo conduttore Di tutto quello Che io dico Cioè Allora Oggi La cucina italiana È riconosciuta Ha una reputazione Ed è anche Di qualità Non sempre Perché poi ci sono anche Ristoranti dove si mangia male Però insomma Comunque Ha una sua reputazione Il problema E l'errore E la cosa pericolosa Secondo me Che l'Italia fa È quella di Spostare Indietro Nel passato Questa sua identità Cioè Confondere L'identità attuale Con le radici Le radici Sono quelle Di un popolo affamato Che è andato In giro per il mondo Che ha scoperto Ingredienti nuovi Che li ha riportati qui Che cambia Che cambia Tutti i giorni Perché poi la cucina È come il linguaggio Cambia tutti i giorni E invece noi abbiamo pensato A un certo punto Stiamo pensando Di cristallizzare La nostra identità Cioè La carbonara Si fa così Se ci metti la panna Il cracco È stato messo in croce Perché ha messo la cipolla Nella matriciana O l'aglio forse Non mi ricordo Se No La cipolla La cipolla L'hanno massacrato Se andate a leggervi L'unico ingrediente Stabile Della matriciana Fino a 15 anni fa Era la cipolla Quindi Tutti gli altri cambiavano La cipolla c'era sempre Quindi non è vera Questa storia Infatti c'è un video bellissimo Di una serie di Video di ricette Su Youtube Che si chiama Italia squisita Qua altra pubblicità Noi ci sono gli chef Che cucinano cose E ad Amatrice Vanno a fare La matriciana E lo chef Avanti con l'età Dice Io comunque Ogni tanto La cipolla C'è un po' Cipolla ce la metto Oh no Però seppure Ad Amatrice Dove tra l'altro Immagino Che si sono accaparrate Sta cosa Della matriciana È loro Sì Fra l'altro io Non sono neanche Tanto convinto Però devo dire La fanno divinamente Sì sì Però io mi ricordo Quando la matriciana Si chiamava Matriciana Senza la A Poi da un certo punto Ci hanno aggiunto la A Ed è diventata Amatriciana Quindi Sì sì Può da essere Io non sono convinto Che sia nata Perché se no che era Cioè da dove veniva Matriciana Come? Da che cosa veniva Eh no no Non te lo so dire Non c'era Il professore vero Che se non lo sa Non si può No Fra l'altro Una delle cose Che mi dice Daniele Soffiati Il podcast doi è Devo essere assertivo Quindi mai dire Secondo me Non lo Devo sempre Quindi No 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 È giusto Matriciana Viene da Ah sì C'era una teoria Che era quella Della scrofa Per cui è la madre Ed è quindi Il maiale grosso Però A me sembra No The matrix No ma Sì Non so Non so No però C'è questa cosa A me mi ha sempre C'è questo Questo Come dire Questa fissa Perché io Tipo l'altro giorno Ho fatto Un video In cui Volevo far vedere Che io uso La salsa chicken Un'altra cosa Che ti ho parlato Di che marcai La salsa chicken? Calvè Perché mi deve Che a questo punto Mi deve dei soldi Perché ho fatto Cioè tutta la gente A cominciare a mandare Non Heinz Heinz è meglio Attenzione E così è come si lavora Attenzione Non hai capito Che qua Le diciamo tutte Heinz Io per i prodotti italiani Uso la calvè Perché Quanto patriottico No però La salsa hot chicken Si chiama Io te la consiglio Non l'hai provata? No non la conosco Ma io non so fare Ecco Posso dirlo Questa cosa qua Io Da ormai vent'anni Mi occupo di storia Della cucina Non so fare il caffè Io non so fare Niente in cucina Mio fratello è chef Mi odia Ma ti odia Avere altri modi Ma mi odia perché mangio No Mi odia perché Mi vado a mangiare A casa sua E quindi Però non so fare niente Vabbè il caffè Lo so fare Perfino io Ma sì ma non so Per quale motivo A me non viene su Cioè io faccio la mocca A me piace quello della mocca E sempre metà Rimane lì Non so cosa sbaglio Che lo schiacci Secondo me Ma neanche Perché poi Adesso mia moglie Sapendo che sono un disgraziato Mi ha preso la macchinetta Quella dove Ce la metto sopra Faccio così Sì Non so Forse sai cosa è questo È il cibo Che si ribella Anche perché io ho parlato male Del caffè italiano Perché il caffè italiano È una schifezza Cioè no Oltre al Io la polemica che ho visto Però chiedo Cioè il caffè italiano Tecnicamente non esiste No beh certo Ovviamente noi non lo produciamo Però la nostra tostatura È eccessiva A noi piace un caffè bruciato Che perde tutti gli aromi Però piace così Cioè adesso Dico è una schifezza Però in realtà Se piace agli italiani Per quale motivo Bisogna fargliene bere uno diverso Però insomma Nel contesto internazionale Il nostro caffè È tendenzialmente piatto Però anche lì Gli italiani Che li vedi Varcano il frisù Il monte bianco L'espresso Guai se non hanno l'espresso Però Che è uno sciottino Tipo Di energia Non lo so Stefano No sì Stavo dicendo Che io ho fatto Ho fatto questo Volevo far vedere Che usavo questa salsa Hot chicken Che è buona La consiglia Calve Mandami i soldi Praticamente Che ho fatto Ho fatto un panino Cioè stavo di fretta Dovevo uscire Quindi ho fatto Della carne finta Tipo di soia Così Ho preso un pezzo di pane Quel pan carret Tipo in cassetta Ci ho messo La cotoletta Una sottiletta sopra Ci ho messo Sta salsa così E l'ho chiusa Cioè una cosa Una veloce Oh la gente mi ha detto Eh però il pane va tostato Eh però Eh va squagliata La sottiletta Cioè pure un panino De merda Capito Cioè Come dire Però col panino De merda C'è una parmigiana Cioè capito Cioè una cosa Pure per le cose Fatte male C'è comunque qualcuno Che c'ha da ridire Su come viene vato E fra l'altro Questa è un'altra Di quelle derive Incredibili Di questo paese strano Perché io cito sempre Goethe Viaggio in Italia Pubblicato nel 1817 Goethe tedesco Che ama l'Italia Sopra ogni altra cosa Ama l'Italia Gli italiani E a un certo punto dice Guarda L'Italia è un posto bellissimo Ma in nessun posto Al mondo mangerai male Come in Italia Non c'è Quindi Chiedi tutto agli italiani Tranne che far da mangiare Adesso invece Siamo diventati Tutti i chef A parte me Ovviamente Però tutti i chef Stellati Però E questa cosa Incredibile Posso chiederti una cosa Però allora Come mai E questa penso Si è una cosa obiettiva E si collega anche Alla cosa che dicevi prima La cucina Giustamente È sempre stata una cosa In evoluzione Gli italiani Sono andati in giro Per il mondo Hanno riportato cose Come mai Adesso In Italia Si mangia meglio Obiettivamente Secondo me però Correggio questo sbaglio Rispetto ad altri paesi Del mondo occidentale Che pure sono Stracontaminati Prendo L'Inghilterra Come esempio Banale Ma vero In Inghilterra Si mangia male Hanno colonizzato Tutto il mondo Perché qua si mangia meglio Che in Inghilterra Secondo me Obiettivamente Però Anch'io Potrei essere D'accordo con te Allora Perché si mangia meglio In Italia Che in Inghilterra Allora Innanzitutto Mi piace citare L'Artusi Che viene considerato Il padre Della cucina italiana Che a un certo punto Sapete L'Artusi Fa tutte queste ricette E poi in mezzo Alla ricetta Prima della ricetta C'è una storiellina Che racconta E a un certo punto Dice Agli italiani Dovrebbero imparare Dagli inglesi A far da mangiare La butta lì Te la butta lì Poi più avanti Invece dice No no Dai tedeschi Quindi Ti butta lì Due posti Che se adesso Tu a un italiano Dici Dovresti imparare Da un inglese Appunto È una bestemmia Incredibile Perché Gli italiani In Italia Si mangia meglio Che in Inghilterra Probabilmente Perché a un certo punto Noi abbiamo Incrociato Lo sviluppo Economico In un momento Nel quale La costruzione E l'identità nazionale Era più in crisi So che non sono Molto convincente Cioè Una delle tesi Di fondo mie È Noi abbiamo fatto Il boom economico In cinque anni Cioè 1958 1963 Sostanzialmente In quei cinque anni Lì succede quasi tutto Altri paesi Germania Inghilterra Stati Uniti Francia Ci hanno impiegato Ci hanno impiegato 150 anni A fare quella Roba lì Ovviamente Un processo Così violento Così Dirompente Che è sostanzialmente Un bulldozer Sulla nostra Sua nostra Civiltà Ha ovviamente Creato Stagnamento Tutto quello che Volete Però Lo scambio Funziona Perché gli italiani Si sono trovati Ad avere un benessere Che fino a quel momento Non avevano neanche sognato Perché questa Poi è la sostanza E ci sono Tutta una serie Di ingredienti Di prodotti nuovi Prodotti industriali Carosello Che ci trasmette Nuovi modelli Di consumo Tutti questi elementi Qui Alla fine Hanno provocato Un'identità Molto forte Tra cibo E benessere Forse In nessun paese Come l'Italia Le due dimensioni Sono sovrapponibili Dalle altre parti Ci sono Prodotti speciali Ricette Della domenica Tutto quello che vogliamo In Inghilterra In Germania Dappertutto Da noi Questa cosa È diventata Particolarmente Forte Quindi noi L'abbiamo proprio Legata A noi Noi che stiamo bene Siamo noi che mangiamo bene Esatto È diventata quella cosa Esatto Guarda Secondo me Il paradigma È il tiramisù Il nostro Il paradigma Della nostra cucina È il tiramisù Che cosa Te lo chiedo La mia ragazza È di Treviso Grande fan Ho chiesto metà Delle domande Me le ha suggerite lei No Lei è veneta Di Treviso Quindi fa parte Del litigio Col Sì col friuli Sì La guerra Però al di là di quello A me non interessa Quando io sono andato a Treviso A parlare del tiramisù Anche lì ho rischiato la vita Perché ho detto Guardate ragazzi Non mi frega niente E perché mi hanno detto Che dal 59 Le beccherie Questo ristorante di Treviso Fa il tiramisù Fra l'altro La storia vuole Che fosse davanti A una casa di tolleranza E quindi Tiramisù Fa riferimento A Diciamo Questa cosa Infatti Addirittura c'è qualcuno Di tiramelo su Ma Pecoreccio Ma Infatti Lasciamo E Va bene Ma La cosa è Irrilevante Cioè che le beccherie Lo facessero Da 59 Non ho nessun motivo Per dire Né sì né no Il tema però È che quel prodotto E quella ricetta Diventa Un'icona nazionale Nel momento in cui Gli italiani Si trovano Grazie alla catena del freddo E supermercati Si trovano due prodotti Che prima non esistevano Che sono Il mascarpone Che esisteva dal medioevo Ma che ha bisogno Di una catena del freddo Molto efficiente Cioè Si fa a Milano Ma già a Brescia Non ci arrivava Perché non c'era modo Di portarcelo E i pavesini Perché Questa è una crociata Che faccio io Il tiramisù Si fa con i pavesini Non con i savoyati Ecco va Un applauso No vedo Senti applauso Applauso per invece Savoiardi Qua c'è il team Savoiardi Il team Pan di Spagna Il rappresentante Del pan di spagna In Italia Deve lavorare più duro Perché qua Ma che poi è buono E' buono sempre Il tiramisù Io ogni volta Prendo un dolce Prendo sempre Il tiramisù Comunque Non mi sono mai detto No io non mi sono mai detto No Cioè Non mi è successo Però insomma Senza i supermercati Senza i frigoriferi Il tiramisù E quindi E' una cosa Che si fa Nelle pirofile In casa Con i prodotti Che le casalinghe Trovavano In supermercato Poi magari C'era qualcuno E' centrico Che ci metteva Il savoiardo Ma non realmente Il povesino E niente Quindi Questa è la storia Della nostra cucina Cioè Un benessere Che prima non avevi Ingredienti Che prima non avevi Che la televisione Ti trasmette E che il supermercato Ti porta in casa Fondamentalmente E ti inventi Una roba nuova Questa fra l'altro E' la maledizione Della cucina italiana Perché i francesi Non ti riconoscono Perché Sarà mica Cucina Quella lì Mescolare l'uovo Con lo zucchero Con il mascarpone Questa è una roba Che sa fare chiunque La nostra cucina E' una cucina D'ingredienti Quella francese E' una cucina Di processo Ma quelli Si mangiano le lumache Che ne sanno Perché Perché Cioè I francesi Come Cioè Differenza Che hanno E' una cucina Più tecnica Cioè Nel senso La differenza Tra quello che si mangia In un ristorante E quello che si mangia In casa E' molto marcata Adesso Anche in Italia Comincia a essere così Ma fino a Pochi anni fa Neanche tanti Perché Il primo che prende Tre stelle In una guida Michelin E' Gualtiero Marchesi Nel 1986 Quindi Non è che Stiamo parlando Del medioevo E fino a quel momento La cucina italiana Diciamo Ma voi siete lì Prendete l'acqua La mettete nella pentola Accendete il fuoco Sarà una mica cucina Quella roba lì E' una roba che sa fare Anche un bambino E questa era Però in realtà Adesso La nostra semplicità Diventa Invece Il nostro Plus E' una parola che odio L'ho detta Ormai Ormai È registrata La vogliamo doppiare No Si può tagliare Plus Plus Ci montiamo sopra Plus A te che cucina ti piace? Tutte C'è una preferita Tra le varie Ma Non lo so In Cina ho mangiato bene Le mie figlie Ha mangiato McDonald's Per un mese Io invece Ho mangiato Cinese Per un mese Quindi a me piace Le piace la cucina Cinese in Cina Ho mangiato Mia figlia Che è stata in Corea Mi ha portato I bacchi da seta Non il massimo Non sono buonissimi I bacchi da seta Sono dolciastri Rimane tutta quella seta Tra i denti No Non sono buoni No Quella italiana Quella italiana piace Ma la cucina cinese Rispetto a quella Che mangi qui in Italia Guarda La Cina È un continente Quindi non so dire Io ero a Pechino Quindi non so cosa voglia dire Questo dal punto di vista Gastronomico interno Ho mangiato di tutto Ho mangiato Anche i grilli E quelli non erano male Quelli non erano male Perché erano lo spiedo Grilli grossi così Lo spiedo Un po' gamberi Così Gamberetti Così Però Mi rendo conto Che è detta così Ma Vabbè però adesso Ormai si possono mangiare Anche qui Quindi va bene Quei gamberi sono buoni Sì Quindi se mangi i grilli Cioè se sono simili ai gamberi Nel senso che Parecchio simili Oppure dici Ah potrebbero sembrare No no Sono parecchio simili Ma fra l'altro Questa è un'altra di quelle cose Che io ripeto sempre Non è che gli insetti Non li mangiamo Perché ci fanno schifo Ci fanno schifo Perché non li mangiamo Noi mangiamo delle schifezze immonde Dalle lumache Le rane A Mantua si mangia molto Il risotto con le rane Insomma quindi Non è che Però se la cosa la mangi Ti fa meno Pensa il maiale Se c'è un animale schifoso Che sta nel suo Nei suoi scrimenti Cioè veramente Anche perché non suda Poveretto Lui deve stare lì Per forza Infatti molti Non Molti popoli del mondo Non mangiano Il maiale Ma Che è un peccato Cioè A me piace Buono Buonissimo Buono Ma tipo Le rane di che stanno Pesce Poco saporito Pesce Non so neanche così buono No No noi li mangiamo nel risotto Ci sono quelli che Vabbè fritte Fritte Fritto Vabbè fritto è buono tutto Quindi non vale No No Noi le spolpiamo Le mettiamo nel riso C'è di meglio Ad esempio A me piace più il riso Con la salsiccia Ah certo Se devo scegliere Posso farti invece una domanda Sul Sul maiale Ad essere detto La salsiccia In generale Sulla carne Io Mi piace molto La carne Però Adesso Si fa anche una questione Sul cibo Se ne fa anche una questione Di impatto ambientale E la carne Sempre in cima alle cose Che vengono nominate Come una Insomma la produzione Della carne Per tutte le persone Se la vogliono mangiare Ha un impatto ambientale Troppo alto Secondo te Si andrà Si sta andando Si andrà In una direzione In cui le persone Sceglieranno Di mangiare Meno carne A luce del fatto Che effettivamente Alle vari animali Ha un impatto ambientale Altissimo Per l'acqua Eccetera Eccetera Sì La risposta è facile Si mangerà Meno carne Si mangerà Carne sintetica Si mangeranno Più insetti Cioè La soluzione E la sostenibilità Ambientale Del nostro Modello alimentare Che è Iproproteico Sarà Seguirà Tante strade Sarà un mix Di tante soluzioni Secondo me È ineluttabile Perché è così Perché non Perché non si può Immaginare Che 8 miliardi Di persone Mangino bistecchie E quindi Se tu hai Il problema Che questa gente Giustamente Vuole le proteine Che tu Da sempre mangi Bisognerà che Si renda La questione Sostenibile Credo che Sia così Ma fra l'altro Sugli insetti Mi sembra Ho partecipato Poco tempo fa A una conferenza All'Accademia Dei Belle Arti Di Milano E c'era Un produttore Di snack Di insetti Small Giants Pubblicità anche questa Poi usciranno Di sponsor Sotto Noi speriamo Noi speriamo Prima o poi Qualcuno abboccherà All'anno E allora C'erano questi studenti Ha portato Questi snack Anche per questi sacchetti Di patatine Fatti con La fine di insetti Io volevo assaggiarne uno Spazzolati In dieci secondi Quindi i ragazzi Giovani Da quello capito Non hanno nessun problema Come se fossero Arrivate delle locuste Sì Esatto Che fra l'altro Nel Levitico Si possono mangiare Gli ebrei Non possono mangiare Quasi niente Ma le locuste Ma le locuste Le locuste Sì Bello Ma le locuste Non sono anche una cosa Che Dio mandò in Egitto Per punire E quindi dice A loro Li distruggono tutto Però tu mangiali Si 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 può fare Tu for one Si può fare Le larve no Ma le locuste Le locuste si Perfetto Quindi poi Grandi spadellate Di locuste Stefano Io ho altre domande Ma se tu Hai rinunciato Sì Ma beh No Questa cosa Delle commissioni Tra Cioè Influenze Americani Americani Diciamo Del cibo Però comunque Non è Perché sembra Che sia una cosa Solo italiana Cioè che solo noi italiani Andiamo in America E facciamo questo Cioè però in realtà È una cosa che succede In tutti i popoli Diciamo pure questo Che se no sembra Che siamo solo noi No Noi abbiamo esagerato Nel senso che La quantità di italiani Che sono andati in giro Per il mondo Tanto è vero Che il nostro modello migratorio È un po' Considerato Un benchmark E come si dovrebbe O non si dovrebbe fare Quindi In effetti Il fatto che Non sappiamo neanche quanti siano Ma insomma Grosso modo Tra il 1875 E il 1950 60 20 25 milioni di italiani Se ne vanno in giro Per il mondo È una cosa grossa Che cambia le cose Un'altra di quelle cose Che io ho detto Che hanno fatto molto arrabbiare È quando dico Che negli anni 50 I belgi mangiavano meglio Degli italiani E l'ho detto Perché questo è uno Dei temi Insomma Che io Ricordo spesso Raccontare la storia Degli italiani Che vanno in giro Per il mondo A insegnare la cucina E noi abbiamo I nostri immigrati È veramente Mancanza di rispetto Nei confronti Della nostra storia Cioè I nostri I nostri nonni Che se ne sono andati In giro per il mondo Sono andati Perché avevano fame E non perché avessero Chissà che cosa Da insegnare E la questione dei belgi Era legata Al disastro di Marsinel Il 1956 L'Italia Cioè non c'è un altro modo Adesso la dico male 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 Ma perché non c'è un altro modo L'Italia Vendeva la gente Il governo italiano Vendeva mille minatori Alla settimana Al governo belga Chiaro In cambio Di 200 chili Di carbone al giorno Per ogni minatore Che mandava là Si chiamano schiavi Perché non c'è un'altra parola Per definire queste cose qua In più 150 muoiono Nelle miniere Ecco Immaginare Che nel 1956 Gli italiani Mangiassero meglio Dei belgi Che erano quelli Che gli pagavano Che pagavano Gli schiavi Ecco E' offensivo Nei confronti Di queste persone Questo è uno E' uno dei motivi Per cui mi sono messo A studiare queste cose Perché mio nonno Era di Gaiba Di Rovigo Che è il posto Polesine Il posto più povero Del mondo Almeno all'epoca Adesso forse no Però all'epoca Era il posto più povero Del mondo Uno su tre Aveva la pellagra Quindi questi qui Che andavano in giro In America In giro per il mondo Non è che avessero Delle grandi competenze gastronomiche Questi prendevano una pentola Mettevano sul fuoco La riempivano d'acqua Ci buttavano dentro La farina di mais E cominciavano a mescolare Questa era la cucina Dei contadini veneti Insomma Immaginare che questi Avessero chissà che cosa Da insegnare Mi dà anche un po' fastidio Poi non c'era appunto Neanche carne Cioè solo quello Zero Pellagra è perché Mangiavano solo polenta Tre chili Quattro chili al giorno Di polenta Questa mattina Pomeriggio No Comunque Quattro chili A testa Il 60% Del reddito Dei contadini veneti Andava Per l'acquisto Di farina di mais 60% Quindi tutto il resto Era Quindi insomma Fa impressione Questa cosa E appunto Uno su tre In Veneto Aveva la pellagra Che è una malattia Terribile Fra l'altro Quindi insomma Questo è un momento serio No no Basta No no Giusto Giusto Mi dispiace No 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 perché poi Fra l'altro Anche questa cosa qui Mi dà fastidio Perché noi abbiamo L'immagine Dell'italiano in America Che è quella Che ci ha trasmesso Hollywood Quindi con la coppola La doppietta Insomma La lupara No queste cose qua In realtà Il 60% Gli italiani Che vanno in America Sono veneti Cioè quindi Non è così Quella storia È diversa Da come viene raccontata Quella storia lì Però ormai Abbiamo questa Quindi Se ho capito bene Il padrino parlava veneto No In realtà Il padrino parlava Probabilmente siciliano Perché comunque Siciliani Poi soprattutto Nel nord America Però ad esempio Nel 1914 La vigilia della prima guerra mondiale New York È la più grande città italiana New York Ha 800.000 abitanti 800.000 italiani Non c'è una città in Italia Che abbia 800.000 abitanti Quindi la più grande città italiana Nel 1914 È New York Insomma Anche questo Fa molto E non sono tutti siciliani Perché altrimenti La Sicilia sarebbe stata Spopolata Non ci sarebbe rimasto nessuno Quindi abbiamo quasi Operato Una sostituzione di popolo In America In America Eravamo noi Eravamo noi Quelli tedeschi irlandesi Come ceppo etnico E poi siamo arrivati noi E poi siamo arrivati noi Che sbaro E ci siamo presi Alla grande mela Infatti questa cosa Della sostituzione etnica Noi poi la applichiamo Anche al cibo degli altri Perché poi noi sul cibo nostro Quei a chi lo tocca Poi però sul sushi Ci mettiamo il Philadelphia Che buono Questo maghi California Invece siamo delle bestie Però a noi ci piace E se i giapponesi Ci dicono qualcosa No ma non ci dicono niente I giapponesi Niene frega niente Niene frega niente Niene frega niente Sono un popolo onorevole Però su questa cosa qui Mi dai il là Per una cosa invece Più interessante Noi siamo i primi consumatori Di sushi in Europa L'Italia Stupendo E quindi Subito Contaminati Esatto E l'altra questione Per me Di rimente È la questione C'è qualche pugliese in sala Si può Si può Si può No la questione Guardate È quella del pesce crudo Il pesce crudo in Puglia È arrivato dopo le sushi Cioè È un classico caso Questa tosta Qui ce la rischiamo Non c'erano pugliesi Però invece all'improvvisa L'aio si è fatta densa Siamo tutti pugliesi Siete tutti pugliesi No ma allora Due nonni su quattro No ma la Cioè In Puglia Come dappertutto I frutti di mare Le coze I ricci Le ostri Che si mangiano crudi Quello Non è un problema Il pesce crudo È una cosa invece Molto recente Ed è L'acquisizione E la contaminazione Della nostra cucina Attraverso appunto L'arrivo del sushi Che ha In qualche modo Modificato i nostri gusti Ha modificato Il nostro modo di approcciare Ovviamente c'è anche Un progresso tecnologico Prima non si poteva Non c'erano gli abbattitori Cioè Sì Lo potevi fare Ma tuo rischio è pericolo Insomma Adesso invece È una cosa sicura Che si può fare E che si adatta Al nostro gusto La pentola del pesce Che non si cuoce più L'altra questione Non so se siete d'accordo con me Una cosa che sta scomparendo È lo scolapasta Non si scola più la pasta Si fa la risottata Guai adesso Se non risotti la pasta È meglio che cambi continente È una cosa incredibile Io non so voi Se voi siete più giovani di me Io la scolo Anch'io Io ogni tanto la risotta La risotta Io vi ho detto Che non so fare niente Per fare la cremina Io non so Che vuol dire Ma io mi ricordo Quando si andava al ristorante E ti portavano il piatto Con la pasta E con il condimento sopra E tu dovevi mescolartelo Quindi adesso Se non fai la spadellata Se sprechi L'acqua di cottura Ma fra l'altro Ma quanti milioni di ettoliti Abbiamo sprecato noi italiani Cioè È uno spreco Abbiamo rovinato il paese Il mondo Siamo noi la causa Del buco nell'ozono Per mettere Per tutta quell'acqua di cottura Tutta quell'acqua di cottura Buttata nel mare Che è piena di amido Che è una cosa Buonissima e importante Però in effetti Ho visto un video Su TikTok Di Giovanni Storti Gli altri Giovanni Giacomo Diceva di non scolare L'acqua Di non buttare L'acqua di cottura Perché Perché ci puoi fare Tipo Il pediluvio No no Ma è una delle cose Più preziosa del mondo L'acqua di cottura L'abbiamo buttato via E io l'ho buttata Infatti il nostro PIL Cioè Abbiamo un debito pubblico È colpa dell'acqua di cottura Abbiamo buttato via L'acqua di cottura Potrebbe essere Io non lo so Io lo butto Anche io la butto Forse Però te ne salvi un po' Se ti serve Al secondo della pasta Che stai a fare Sì però La stanza La acqua della risottata È veramente Mia mia Che vuol dire Che tu la metti Nella padella La metti ancora cruda E poi aggiungi L'acqua di cottura Quando si asciuga Come fa il risotto Però con la pasta Esatto Io non sono capace Non manco io Spadellare è difficile Cioè io non ho la manualità Per fare quella cosa Però Dipende pure Alla padella Che compri Però dopo un po' Diventa Non lo so Io non sono capace In ogni caso Io ne faccio Un ragionamento filologico Fino a E fra l'altro Secondo me Tu hai citato TikTok Secondo me I social Sono stati fondamentali Infatti questo Ti volevo chiedere Nel diffondere Questa cosa Adesso la televisione Ci fa vedere Le ricette Masterchef I programmi TikTok Instagram Le ricette Ciacca 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 Questa cosa Ci ha fatto bene O male? Boh È una cosa Cioè la cucina cambia E quindi Non so dare un giudizio di valore Cioè io non so dire Se mi sembra Che la risultata Sia meglio Ma perché il mio gusto Nel frattempo è cambiato Io quando andavo al ristorante Mi davano la pasta Con il condimento sopra Dicevo che buona Quindi Non lo so Però Io registro il fatto Che stanno cambiando Tante cose Ma d'altro Ma l'Italia Il nostro motto È Francia o Spagna Perché se magna Cioè quindi Alla fine È così Ma d'altro canto Il pomodoro Ci arriva dall'America Ci avevamo messo 200 anni Per accettare il pomodoro Perché prima Avevamo paura Che fosse velenoso La patata Che ci portava la lebra Cioè ci abbiamo impiegato Siamo un po' Un po' conservatori Però poi alla fine Quando ci lasciamo andare Va bene Quindi adesso Risottare va bene Adesso risottare Però mi piace Che effettivamente La contaminazione gastronomica Più facile Che accettiamo più facilmente È proprio quella da est Cioè comunque sia O almeno lo vedo su me stesso Io salse orientali Le uso tantissimo Eh allora Però ad esempio E est anche quello Dire la verità Però in realtà è nord Noi siamo i terzi Per il consumo di kebab In Italia E in realtà Siamo terzi Ma per ovvi motivi Perché in realtà Saremo i primi Anche in quello Ma in che senso è nord Perché Perché è roba tedesca Il kebab è tedesco No è tedesco Quindi non solo Ci nimichiamo gli italiani Adesso anche I musulmanici Tutti Perché l'hanno fatto Il kebab è tedesco Quindi noi comunque Io finché ci nimichiamo gli italiani Ti seguo Finché scusami Ci inimichiamo gli italiani Ti posso seguire Se dobbiamo inimicharci i musulmani Io un po' passo dietro Lo farei Il kebab di Berlino Mi sa No ma allora Lì sono stati Il kebab è turco È turco Però quello che mangiavano È condito Con le cose Però La questione è che L'immigrazione turca In Germania È molto precoce Già negli anni 70-80 C'è stata una prima ondata Di immigrazione turca Alcuni hanno In qualche modo Industrializzato Il loro piatto tipico La cosa incredibile È quello che è successo Nel nord Africa Perché è successo Come la pasta Cioè i magrebini Non lo conoscevano Il kebab L'hanno conosciuto In Europa Ed è diventato Il cibo classico Dei musulmani In Europa Perché si adattava Ovviamente I loro Legami I loro vincoli religiosi E di conseguenza Hanno cominciato A consumarlo A quel punto L'hanno riportato Poi nel Magreb Ma prima Di questa ondata Migratoria dal Magreb All'Europa Il kebab Non c'era E fra l'altro Ovviamente Questa ondata Ha spinto in alto La produzione di kebab Che è quasi tutto Surgelato E che viene fatto In Germania Ci arriva Surgelato E infatti Quando dico Che noi siamo terzi Ma in realtà Siamo primi È perché La Germania La produce E quindi è chiaro È la prima Infatti La seconda È la Francia Per forza Con l'immigrazione magrebina Che ho avuto È chiaro Che ha una domanda Molto alta Noi Noi siamo i primi Perché poi alla fine Secondo me La mangiamo noi italiani Però il kebab Noi lo mangiamo Dove si fa il kebab? A casa non ci facciamo il kebab È vero È vero Però il sushi Stiamo cominciando Io vedo Le mie figlie Fanno il sushi O comunque Usiamo la soia Per condire Usiamo la oyster È vero Però è anche vero Che io trovo Il supermercato Il kebab Sì? Sì Nelle vaschette Adesso Non lo so Ho trovato Questa cosa qua Quindi evidentemente Non l'ho fatto Però evidentemente C'è qualcuno Che si porta a casa I brandelli di carne Insomma La carne E poi se lo fa a casa Poi se lo condisce Come vuole Però è vero Che Ma forse anche Perché la struttura Per la cottura Un po' più complessa Non so Sto cercando Delle motivazioni Adesso Ancora una volta Daniele Soffiati Quando arrivo a casa Mi dice È sbagliato È assertivo Quindi sì Perché non c'è La cottura verticale Quindi non si può fare Quindi il kebab Che noi mangiamo È surgelato Cioè quello che noi vediamo È tutto surgelato Surgelato tedesco E quindi per mangiare Il kebab fresco Andare in Germania Forse non si può neanche fare Il kebab fresco Perché comunque C'ha tutti quei livelli Io l'ho mangiato In Turchia In Turchia era Non so se era fresco Spero Che fosse fresco Però Mi sembrava un po' diverso Da quello che mangio Qui A me piace il kebab Non è buono Buono Che vuoi dire Il kebab L'ho già detto Mi piace molto bene I ravanelli non mangio I ravanelli Che ci metti nel kebab La salsa yogurt Sì Sì E quella Ce n'è una molto piccante Mi piace il piccante Sì Non so come si chiama Tabasco Sì sì quella piccante Quanta ne metti Tanta 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 Sì Quindi sia bianca piccante Esatto Dici tutte le due E poi fai un mix Di tutte le cose Sì Non mi piacciono le patatine Che secondo me Non hanno senso Però Però Me le metto Era un test questo No 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 Però Dice molto Di una persona Come ti fai il kebab Come ti fai il kebab Ieri mi hanno Rimproverato tantissimo Perché metto lo zucchero Nel caffè Ah Io posso dire una cosa Io non lo mettevo Per sentirmi sto cazzo E invece lo metto Perché è più buono Ma sì Sì ma infatti Ma perché Io sono d'accordo Guarda Questo è Questo è il populismo Questo è come i griffin Guarda Proprio la gente No 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 Ma io senza Dai Senti il bruciato Senti il Eh senti il bruciato Ma senti va un po' Ma è amaro Così c'è pure il kick È buono amaro Ma fra l'altro Poi su questa cosa qui Infatti dopo Quando mi hanno Rimproverato Ho cercato di difendermi In maniera maldestra Però ho detto Ma scusate Se c'è una cosa Che nel mondo Ha fatto male È stato il fatto Che Il caffè L'abbiamo portato Noi In Sud America E poi abbiamo portato La canna da zucchero E quindi abbiamo dovuto A un certo punto Portare un sacco di schiavi In America Quindi è la commistione Tra caffè e zucchero Che ha generato Il capitalismo E quindi io Mi sento responsabile Di tutto questo Però ormai è andata Insomma Ormai è successo Non datemi dire Cioè io sono nato Molto dopo Quindi caffè e zucchero Sono le allezzande Del capitalismo Esatto Sì è la causa Del capitalismo Lo zucchero Ma adesso mi sento in colpa Anch'io un po' Però ormai è andata Cioè non possiamo Assumerci Ormai Non possiamo Ma no Ormai è fatto Storico per la canna Da zucchero Nel caffè Però io ancora Ogni mattina Sto là Che perpego Questo allora Si collega A un'altra domanda Tu non hai la pagina Wikipedia In italiano Però hai la pagina Wikipedia In inglese E sulla pagina Wikipedia Viene definito Marxist Perché questo? Why? Non lo so nemmeno io Nel senso Io sono stato Marxista E ho smesso Però Come gli ex fumatori Odio Cioè gli ex fumatori Odiano Quelli che continuano A fumare Perché Gli infamidi e voglia Esatto Quindi adesso Proprio come per le sigarette Se bevi un bicchiere di vino Tipo ai matrimoni Ti sale il marxismo Esatto Solo per oggi Che problema ci sarà E poi Due mesi dopo Infatti Già adesso Avete visto Su storia dello zucchero L'accumulazione Primitiva Quella roba lì Ho smesso Però È faticoso Ogni giorno C'è una tentazione Però Cerco di non farlo Cerco di smesso Però mi hanno chiamato così È stato il Financial Times Mi ha definito Accademico marxista Accademico marxista Anche accademico Cioè sì è vero Lo sono Però non mi capita mai In Italia Nessuno mi chiama Mi chiama professore Accademico Non è una roba Uno pensa Una roba Accademico marxista Se lo dici Ti ammazza Secondo me È perché gli inglesi Sono schematici Non sei fascista Sei comunista Ok Quindi se non c'è scritto Marxista In qualche bio Vuol dire automaticamente Sei Esatto Infatti State attenti Se non vi definiscono Marxi Io non ho la pagina Wikipedia Stefano ce l'ha Andate a vedere Cosa trovate scritto Questo si collega In realtà A una rubrica Che Ricorrente Di questo podcast È una domanda Che facciamo A tutti gli ospiti Una domanda Simpatica Che è Qual è il tuo Dittatore estero Preferito Chiaramente Estero Se no Troppo facile Vivente No Non per forza vivente Il tuo preferito Se vuoi ti faccio la premessa Essendo tu un accademico Non è che stiamo qua A dire I dittatori Ci piacciono Però Secondo Qualsiasi parametro Tu vuoi applicare Questo è un podcast Anche comico Qual è il tuo dittatore Estero Preferito Ne ho tanti Vuoi fare una top 3? Allora Adesso Posso fare Adesso Prima di fare Allora L'applauso Mi mette Un po' In difficoltà No Perché io Allora Io Adesso vi dico Una cosa Semiseria Io All'università Ho ricevuto Due applausi Nella mia vita Alla fine Anzi L'inizio La prima volta Mi sono presentato Mi sono presentato in giacca e cravatta Gli studenti mi hanno fatto un applauso Questo dimostra che il mio look non è molto curato Mediamente E quindi è stata la cosa Poi un'altra volta è stata però per un episodio abbastanza importante Che è stata la strage di Nassiria L'Ateneo ci aveva imposto un minuto di silenzio Io ho detto A me sembra assurdo L'università è il luogo del confronto Del dialogo Bisogna parlarne Non stare zitti di fronte a questa cosa qua E lì mi hanno fatto l'applauso Vabbè però Questa è una cosa seria Quello è a livello alto Esatto Qua a tintoria No È bastato dire Esatto Sto pensando Allora Ce n'è uno Però è brutto Però c'entra col cibo Boccassa Che era quello famoso Perché sembrava che facesse cannibalismo Quindi vale Sì sì no Vale tantissimo E chissà se è pure la Però con l'essere umano c'è il parmigiano I bambini con il parmigiano E no Vabbè Kim Il Sung Come mai? Ma perché è ridicolo Perché insomma fa un po' ridere E vabbè poi No no Sto pensando perché a me dà fastidio Mi dà fastidio Che tutte le colpe vengano attribuite a Stalin Ma in realtà quello che ha fatto Veramente dei danni è stato Quello prima Lenin Ah questo è interessante per un accademico marxista Sì Andare a puntare il dito su Lenin Quindi 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 Non lo vogliamo mettere tra i preferiti O lo vogliamo mettere in quanto No no Stavo dicendo che Voglio riabilitare il povero Stalin Ah ecco Eccolo Il testa coda del marxista Sì 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 Quindi ho messo Stiamo tendendo un ramoscello di vivo A Stalin Sto pensando che Ho messo tutti i comunisti Comunisti No però ho dimenticato Ho dimenticato Castro Castro Vedi Se lo meritava Il podio se lo meritava Se lo meritava Castro No ma Una medaglia di bronzo Sì ma perché poi parlava per sei ore Era come me Quindi Quindi Tra l'altro Credo No Forse sì Perché io sono nato lo stesso giorno di Mussolini Ah Il 29 luglio Il 29 luglio E secondo me Castro E roba lì intorno Credo però Un leone Interessa? No Sì sì no Che segno? Leone 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 Il segno giusto Certo Quale altro se no Infatti Meglio un giorno da leone Si sono Esatto Non so Adesso che mi Parlando Ma questa è una domanda incredibile Non me l'hanno mai fatta Senti di libero Me ne vengono in mente Cioè ad esempio Anche Napoleone a modo suo Può essere considerato Posso dire una cosa su Anche Napoleone III fra l'altro Non era male Napoleone III Perché non era male Napoleone III? Ma perché L'altra parte è il fatto che Ad esempio Io che sono mantovano Sono diventato italiano Perché gli austriaci Hanno dato Il Veneto E quel pezzo di Lombardia Alla Francia E poi la Francia L'ha girata all'Italia La girata all'Italia Perché altrimenti Gli austriaci Non ci dava niente Questa è una delle mie storie preferite Che noi comunque Si ha tutte le nostre guerre Le abbiamo perse Le abbiamo perse tutte E tutte le volte Siamo andati alla Francia A fare per favore Per favore Per favore Vi prego Abbiamo sempre applicato La proprietà transitiva Della guerra Per cui noi Le guerre perdevamo Però Avevamo il nostro alleato Che vinceva Quindi E poi Il culmine è stato Seconda guerra mondiale Quando l'abbiamo cambiato Sì va bene Abbiamo fatto l'arrocco Ma invece Ma la terza Guarda che è la terza Guarda di indipendenza A parte il fatto Che abbiamo rovinato L'economia del paese Ma non ne abbiamo vinta una Il povero Garibaldi Era già arrivato a Trento L'han fermato Insomma è l'unico Tutte le battaglie perse Non ne abbiamo fatte Niente Abbiamo vinto la guerra Noi posso dire Però ecco Questo Questo c'era Più del cibo Più di tutto Noi abbiamo Che nelle guerre Siamo disgustosi Però alla fine Ne usciamo In qualche modo Col mento Non sul petto Ma a mezza altezza Non si sa come Sai che questa È la famosa frase di Churchill Che gli italiani Perdono le guerre Come le partite di calcio Le partite di calcio Come le guerre Però appunto Noi alla fine La guerra È sempre colpa dell'arbitro Sempre colpa dell'arbitro Churchill tra l'altro Forse dittatore estero Sottovalutato come dittatore Perché poi lui ci ha provato Sulla fine a dire Allora io questa cosa Ce l'ho a vita Diventa Sì però Io non lo annovero Non lo annoveriamo Sarebbe dargli troppo No 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 Non ce la facciamo Cioè non ce la facciamo Cromwell Ci piace Cromwell Ma no ma no Adesso sta andando indietro Nella storia Non vale No no Sì no perché No appunto Sì dopo Cioè dal novecento in poi Dai Infatti all'inizio chiedevamo del novecento Però poi ci erano state sollevate Però sto pensando a Napoleone Napoleone terzo No non valga No no Allora Quelli che ho già detto Ci metto dentro Castro E basta Va bene Diciamo menzione speciale per Castro Sì esatto Premio la carriera Giustamente carriera lunghissima No è vero Castro che mangiava secondo te Com'era la sua dieta Ma Beh C'hanno mica le ragoste C'hanno tutte Si mangia bene Non sono mai stato a Cuba Purtroppo Però Si beve bene Si beve bene Si beve bene Sia il room che Tutti i cocktail Posso annoiarvi su questa cosa Vai Non ci annoio L'avana è Storicamente Il centro di smistamento Del ghiaccio È l'altro libro che ho scritto Quello serio Cioè? Gli americani A un certo punto Globalizzano il mercato del ghiaccio Prima dell'invenzione Del frigorifero E quindi Nel New England Insomma Boston E dintorni Fanno grosse raccolte di ghiaccio Che poi vengono stoccate E poi mandate in tutto il mondo Le mandano in India Le mandano dappertutto L'avana È il centro di Diciamo di stoccaggio Di smistamento del ghiaccio Dal Nord America Verso Sud America E quindi c'è abbondanza di materia prima Questo spiega perché Nell'Ottocento Si sviluppa La mixologia Si può dire? Si può dire Si può dire Sì sì Meglio mixologia di mixologi Perché se non è un altro Un termine italiano Allora io c'ho Intanto bevo Vai Perché Tra l'altro poi Anche noi beviamo alcol qua Però anche l'alcol in teoria adesso È una roba che Fa malissimo Fa male Cioè Ma è cancerogine Lo sappiamo Sì 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 Abbiamo scoperto Questa è un'altra di quelle cose No perché io sono in guerra col governo Sei in guerra col governo? Ma sì In realtà il governo è in guerra con me Io In quanto marxista tu dici In questo momento Ma io Ah no Ho detto che l'ho smesso Ah ok Sì giusto Giusto No No perché Pure loro hanno smesso Quindi Sì Avete deposto Quelle armi Ne avete prese altre È una guerra indifferita Ci siamo fatti No Per la questione Della carne sintetica La carne cultivata Che il ministro ha detto Non ci sono evidenze empiriche Che faccia male Però Per sicurezza Diciamo di no L'alcol Ci sono un sacco di evidenze empiriche Che fa male E però quello invece va benissimo Viene in Italy Tutti là che bevono E quindi È un po' strana questa cosa Cioè mi sembra un po' incoerente Però tu dici Questo per andare in direzione Di non Non proibiamo la carne sintetica Eh sì esatto Sì sì Eh no Perché altrimenti Se vale il principio Diciamo di no La carne coltivata Dovremmo dire di no Per lo stesso motivo All'alcol Qualunque tipo di alcol Perché cancerogeno Oltre ai problemi soliti Ma sì Ma poi ci sono Credo che facciamo Non sono un medico Però credo che facciamo Molto molto male Non c'è Non c'è una modica quantità Che non fa male Fa male Sì questo L'altro mito Un bicchiere di vino rosso Al giorno Quello Cazzata Secondo me sì Però Oddio ho detto Secondo me No invece Per io invece Come sono una sentita Dopo mezza piena No è una cazzata È una cazzata Non so niente Faccio il comico Sì E poi tra l'altro Anche il vino Cioè noi ce ne parlano Come se esistesse da sempre Però faceva schifo Il vino Di tutto il tempo Quello Quello è Quello è sodato Cioè adesso Il vino esisteva da sempre Ma era Io lo dico sempre I romani bevevano una roba Che assomigliava al fango Questo era Mediamente l'aspetto Poi lo diluivano Con tutto Compreso L'acqua di mare Immaginatevi Un vino Diluito Con l'acqua di mare Infatti la faccia è quella lì Fra l'altro Io ho assaggiato Un vino Che aveva il 2% Di acqua di mare Ed era sufficiente Per renderlo imbevibile E quindi Quindi sì Ci mettevano dentro di tutto Spezie Acqua Neve Acqua di mare Tutto quello che ci potevano Mettere Perché era assolutamente Imbevibile E quindi Quindi sì Ma questo fra l'altro Vale fino a non molto tempo fa Poi con la filossera Noi non sappiamo Cosa c'era Che vino c'era Prima del 1870 Ma quindi tipo C'è Gesù Cristo Nell'ultima scena Cioè Era diluito Che si è bevuto Era diluito Questo è il mio sangue Ma era una cosa Era diluito Era ragionevolmente L'avevano allungato con l'acqua E Giuda quindi ha fatto Ma che mi hai dato Non era per quello Non era per quello Non era per quello Stefano vogliamo fare Vogliamo fare quella cosa Sì dai Siamo arrivati Sì Noi vogliamo fare questo Vogliamo appunto inimicarci Tutti Tutti Tutta l'Italia Quindi volevamo fare Regione per regione Prendere un piatto Il piatto tipico In una regione E tu se lo smonti Ci dici questo Allora Allora Questa era l'obiettivo Di denominazione di origine di vita Quando è uscito il libro Il mio editor Della Mondotore Ha detto Dobbiamo farci un nemico In ogni regione Non ci sono riuscito Ma guarda adesso La Valle d'Aosta E il Molise Niente No a Valle d'Aosta Sì Valle d'Aosta C'è un riferimento A un prosciutto particolare Allora partiamo proprio Dalla Valle d'Aosta Se vuoi fare Valle d'Aosta Qual è il piatto tipico della Valle d'Aosta? La fonduta La fonduta E la fonduta? Ma la fonduta La fanno un po' Dappertutto Quindi non puoi dire Che è una cosa Che è tua Io ho fatto per due anni In Svizzera E là La fonduta È una cosa Anzi Loro dicono Che è un piatto tipico svizzero Quindi Erano Prosciutto Che raccontano Che è nato Nel 1648 Quindi alla fine Della guerra Dei trent'anni Non si capisce Per quale motivo Finita la guerra Si mettono a fare Dei prosciutti È una strada inventata È una strada Palesemente inventata Ma sui prosciutti Ne abbiamo per tutti Perché tutti Hanno il loro prosciutto Chi non ha il prosciutto? Buonissimi Tra l'altro Quindi Valle d'Aosta Valle d'Aosta Messa al loro posto Piemonte Piemonte Sul Piemonte Ci sarebbe La cosa bellissima È il Vitteltonne Si Vai A me manco mi piace Quindi A me piace Ero a Torino Al Salone del Libro E ho mangiato Il Vitteltonne No L'hanno inventato I milanesi Ah Inventato i milanesi Si Esatto Poi ho inventato Da loro Si Perché è tutta Una storia strana In realtà Adesso Questa è divertente Il Vitteltonne Nasce come Tonno vitellato Non come Vitello tonnato Tonno vitellè Esatto Quindi L'idea Era quella Di usare Il tonno Il pesce Per imitare La carne Invece Poi Alla fine Hanno ribaltato La ricetta Ma sono stati Ragionevolmente Successi a Milano E dopo Come sempre I piemontesi Un po' Hanno questa caratteristica Ah Che caratteristica Che caratteristica Una persona Se ne va Guarda Con questa cosa Un torinese Un cunese No Quella di Prendersi Ci sono presi Un paese Alla fine Meglio di così Quindi Liguria C'ho quella bellissima Vai vai Il pesto Madonna Il pesto Schifo Ho detto I rapanelli Ma anche la rucola Non mi piace Ma si può fare Il pesto con la rucola Io l'ho mangiato Qua a Roma Pessimo Ma insomma È una schifezza E però La ricetta Più antica Ci dice questo Che con la rucola Ma sempre Sempre in Liguria Liguria Sì 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 Ma chi lo sa Che se è la rucola Viene un po' dappertutto E lo zabaione No lo zabaione Ecco quella invece È una cosa molto interessante Perché già ne parla Maestro Martino Quindi nel quindicesimo secolo Quella è una ricetta Che rimane stabile Quella è una delle poche cose Che non cambia D'altro canto È anche abbastanza banale Insomma Zucchero Come si dice Uova E un liquore qualsiasi Più o meno La fai C'ha una zona d'origine L'orzabaione Allora Questa è bella Se volessimo prendere Mastro Martino Potremmo immaginare Lombardia Ma forse anche Roma Ah Cioè comunque Sì Distante Sì 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 Beh beh Girava quella gente lì Girava Cioè li pagavano Quindi Ma sono recenti Tipo anche il pesto Cioè il tonnet Sono recenti Beh Vitero tonnet Sì Vitero tonnet Come lo conosciamo oggi Con la maionese Insomma con la salsa Comunque diciamo Ma perché questo ostracismo Nei confronti dell'Ainz Non lo so Infatti parliamo di questa cosa No Perché l'Ainz Ha un merito Ai miei occhi Straordinario Ah scusami Sì no scusami tu No Non ho il fisico No Ainz Ha inventato il ketchup Non è un meritevole Di rispetto E di stima Però Calva ha inventato La salsa chicken Che comunque Ma non l'ho ancora provata Quindi non posso esprimere un giudizio L'ha inventata Cioè quando Come l'hanno inventata Così Cioè quando l'hanno inventata Ainz Beh è roba di 1915 Ok Quindi Abbastanza recente No effettivamente È grossa Cioè ha cambiato il mondo Quindi Ainz Tanto rispetto Tanta stima Dalmeno da parte mia Poi ci pagano No No Neanche l'ho Paristi Che rischi Ma l'abbiamo poi No l'americano 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 L'Ainz Lombardia Allora L'Ainz Lombardia sono forti L'Ainz Lombardia sono fortissimo Cosa vuoi sapere Cosa Cioè Sfatiamo una cosa tipica Che non è Che non è loro Vabbè dai La cosa più semplice È la La presaola Della Valtellina Si fa Si fa con lo zebu Che arriva dal Brasile Ah sì Ma Ad oggi Sì 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 Ah volete cose storiche No 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 Questo è Bellino tremendo Tutto Te credo che costa così tanto Viene dal Brasile Non zebu Che è un animale Che Non mi ha mai sentito Non mi ha mai sentito C'è anche C'è Infatti Come fai Pensa quanto può costare È una muccona gigantesca Ah ok Almeno è una mucca Non è No 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 ma Cioè Ci sono motivi Cioè È una carne più magra Ci sono motivi E poi soprattutto In Valtellina Non ci sono le vacche Quindi È un buon motivo Per andare a prendere Non so in Brasile Ma che fanno in Valtellina Se non c'hanno le vacche Trattano le vacche Trattano la carne di zebu Esatto Sì Cioè Ci sono Ma sono poche Insomma Non sono sufficienti A coprire Il fabbisogno mondiale Di presaola Poi c'è il panettone Beh sì È bella anche questa storia qua È bella il panettone Il panettone lo inventa Angelo Motta Nel 1919 Quindi tutta la storia Del pan del toni Non so se a Roma È famosa questa cosa No Giustamente No 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 Non lo mangiamo No vabbè Sì No C'è tutta la storia Di questo fornaio Che era al servizio Dei visconti Dei duchi di Milano E che a un certo punto Brucia questa pasta Che insomma la rovina E allora si inventa Di metterci dentro l'uvetta E i canditi E inventa il panettone Non è vero Ma no ma figurati E questa invece Nel 1919 Angelo Motta E nasce Ecco questa è la cosa interessante Nasce come prodotto industriale Poi arrivano I Gignomassari Tutti quelli di adesso Che fanno Il panettone artigianale Ma è una cosa Degli ultimi vent'anni Prima il panettone artigianale Era una contraddizione in termini Era un prodotto industriale Ma invece il risotto allo zafferano Beh allora Il risotto allo zafferano Quello è una Secondo me è quella Io sono No nel senso Io sono di Mantua Milano per noi È come Calcutta Cioè è un posto pericolosissimo È una cosa Sì neanche Bogotà Cioè è una cosa E proprio le robe E noi odiamo Cioè almeno io Dopo magari c'è anche qualche mio concittadino Che ama Io odio Milano La differenza che Che ha per me Milano e Roma È una sola No aspetta Aspetta Questa è oltre No Abbiamo trovato Degli hater di Milano No però è bello Hai parlato come parlano I rapper di adesso Milano sembra Bogotà Io la odio No no Io dico sempre La differenza per me Tra Milano e Roma È solo una Che a Milano Mi girano le balle Quando devo andarci A Roma Quando devo tornare indietro Questa è la differenza No è vero E vai E quindi rimango No Allora Secondo me La questione del risotto Zafferano tutta sta storia Della fabbrica del Duomo Che quindi usavo nel giallo Per dipingere Ma in realtà poi l'hanno usato Ma chissà Può anche essere È questione che è Un'ostentazione di ricchezza Cioè tu Metti nel risotto La roba più costosa che hai Questa è proprio una roba da milanesi Perché tu ci metti La roba più costosa che hai È una cafonata È una cafonata Che non serve a niente Perché Ma poi che sapore c'è Lo zafferano È speciale Il risotto allo zafferano È strepitoso Ma sì Ma perché ci metti Il parmigiano e il burro Poi alla fine Questo è vero Quindi Però no Lo zafferano Gli dà il kick Bah insomma Poi ci fate Ci mettono gli ossobuchi Sì no Però io da ragazzo Cresciuto all'Aquila E Navelli Produttrice di zafferano Devo anche difendere Zafferano ha la sua dignità Effettivamente Però insomma Mi sembra quella lì Una milanesana Ma sì Una roba proprio Una roba da milanesi Sono molto contento La Lombardia L'abbiamo massacrata Infatti ci tengo a dire Che sono lombardo Quindi E non siamo ancora arrivati a Napoli Non so Non so che succede Tra un po' Un teaser Infatti Infatti Comunque Quindi Milano Milano Però l'osso buco Sì sì Quello Ma infatti ne parla Gadda Che è milanese Ma poi alla fine Scrive sempre nel romano Chiama i milanesi Gli osso buchivori Ah vedi Quindi Quello ci sta Sì ci sta Però a me piace Ecco Abbiamo trovato Una cosa buona di Milano Buona Pure la cotoletta Buona No la cotoletta La cotoletta è viennese Ecco Questo è Perfetto Quello è viennese Viennese Quella l'hanno copiata In maniera terribile Come sempre Milanesi Che poi in effetti Che poi in effetti Cotoletta È come tipo bistecca C'è tipo una traduzione Dall'inglese Cotoletta sarebbe No ma infatti Comunque I milanesi L'hanno presa Dagli austriaci Che sono stati lì Un po' di tempo E infatti Se andate a Vienna Mangiate la cotoletta Che la chiamano Wiener Schnitzel Che a me piace Piace di più Perché A parte che mi piace di più Vienna di Milano Ma ci vuole poco Però Mi piace anche molto La Sacker Devo dire E anche lo Strudel Con la panna Buonissimo Questo mi piace molto E comunque Il campanilismo Tra con regionali Poi si sente Perché siamo tutti italiani Se volete Possiamo parlare male Anche dei miei concittadini Vai vai Prego Questa la racconto Spesso Perché fa Fa molto ridere Adesso Ho detto così Non riderà nessuno Allora La specialità della mia città Sono i tortelli di zucca Allora La figura chiave Di tutta questa storia Perché I tortelli di zucca Si fanno a Mantua E a Ferrara E allora La figura chiave È Isabella d'Este Che nasce a Ferrara E a 16 anni Sposa Francesco Togonzaga E diventa Marchesa di Mantua E quindi Questa è la sua vita I ferraresi dicono Ha imparato A fare i tortelli di zucca A Ferrara E poi ha portato La ricetta a Mantua I mantovani dicono No Ha imparato a Mantua E poi ha mandato La ricetta Ai suoi fratelli Che erano rimasti A Ferrara Il dettaglio è che All'epoca di Isabella d'Este La zucca non c'era Quindi ci siamo tolti Il pensiero di Isabella d'Este Perfetto E non so Dopo Veneto Ma Ma sai il Veneto Ma no Cosa Sto pensando Ah lo sprizzo Lo sprizzo Bellissimo La storia dello sprizzo La sprizzo è una roba Degli anni 70-80 Beh allora La questione era Che non c'era il prosecco Perché il prosecco Nasce negli anni 50 Quindi non si poteva Prima Perché raccontano la storia Degli austriaci Che mettevano Il vino bianco Col ghiaccio Che può anche essere Ma loro a questo punto Lo facevano anche i pugliesi Lo facevano anche i greci Cioè mettere il ghiaccio Lo facevano anche i romani L'ho detto prima Ci mettevano la neve Quindi Non è questa la differenza Poi c'è la questione Del select Che loro usano Come appunto Accompagnamento Per il prosecco È vero che il select Nasce negli anni 30 Ma insomma Sostanzialmente Si fa con l'Aperol Tant'è vero che poi Il boom dello spritz È quando l'Aperol Lancia la pubblicità E appunto Quindi siamo negli anni 90 Fondamentalmente Ed è un grandissimo successo Ecco Io ho molti amici A Valdobbiadene Da quelle parti lì Tutti odiano il prosecco Io Che non ho nessun motivo Né per ammiarlo Però è un prodotto Straordinario Sono su questo Sono d'accordo Cioè È veramente Gli amici di Valdobbiadene Ne odiano il prosecco No? No, no Loro mi apprezzano Perché io Sottolineo il fatto Che questo prodotto Questo vino È un vino Sostanzialmente industriale Fatto Nelle autoclave D'acciaio Quindi quelle le botti Non le vede Ed è un prodotto innovativo Che si adatta Ai consumi Di un pubblico giovane In espansione Alla fine Sono 800 milioni Di bottiglie Stiamo parlando Di robetta Ed è un prodotto nuovo Frutto di innovazione Di cambiamento Di un marketing Molto Molto Intelligente Secondo me Non capisco Ed è questo Il motivo Del mio scoramento Nei confronti Dei miei Quasi concittadini Parmigiani Ma perché dovete Tirare fuori Boccaccio Ma che ve frega Voi di Boccaccio Perché dovete Dirmi che il vostro Formaggio è quello Di Boccaccio Dite che l'avete fatto Adesso Che l'avete cambiato Che siete stati bravi Che avete inventato Un prodotto nuovo Cambiandolo Ma invece no Bisogna sempre tirare fuori Matilde di Canossa Ah Ci avrei sulle miglia Ne ho tante Adesso Arriviamo Trentino E Alto Aspetta no Però Come stiamo Quel baccalà Che viene spalmato Ah sì Il baccalà La Vicentina Quello lì Allora Quello è L'esempio Ecco Quello fra l'altro È un altro esempio Di come Si inventano Le tradizioni Cioè Di come Noi ci raccontiamo Le cose In maniera sbagliata Il baccalà È un pesce Che qui non c'è Quindi bisogna importarlo Quindi abbiamo Abbiamo fatto Una materia prima Che arriva dal nord Europa E l'abbiamo trasformata In una base Di una nostra cucina Poi è vero Che il mantecato Insomma adesso È una cosa Insomma diciamo Grosso modo Di 70-80 anni fa Però Comunque Era la base Dell'alimentazione Dei contadini Che potevano In qualche modo Alcune volte Non limitarsi A mangiare polenta Quindi Era assolutamente Un pesce Molto consumato Tra l'altro Non solo dai veneti Ma da tutti gli italiani Cioè proprio Il baccalà È la base Lo stockfish Lo stockfish Quindi È una cosa nostra Pur non essendo Un prodotto nostro Trentino E Alto Adige O anche Tutto insieme Se non vogliamo Non facili Alto Adige Ma infatti Sì L'unica cosa Che mi viene in mente È lo strudel Però anche lì Se questi sono tedeschi Dove parla male Dei tedeschi Quelli sono pericolosi Io parlo male Solo degli assenti No Non mi viene in mente Niente Né sul Trentino Nessuna delle due Sto pensando Qual è un cibo Tipico Ma ci hanno I canederli I canederli Ma sì Quelle Sono Ecco Quella è una roba tedesca Quella è proprio Una cosa tedesca Penso che lo sappiano Anche loro Ma sì Perché non sono italiani Sì Lo sanno Lo sanno Beh Adesso Il Sud Tirolo Vogliono chiamarsi Manco parla Scusate I migliori italiani possibili Sì 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 Quelli che non vogliono esserlo L'Italia è bella Perché è varia E perché ci sono Ci sono i tedeschi Ci sono i tirolessi Esatto Ma teniamoci di stretta No ma insomma Ok Ne avrei Ne avrei da dire Però Vabbè No dai De Gasperi È uno dei padri della patria Ed era tedesco Perché non lo utilizziamo Era tedesco? Ma sì Era trentino Cioè parlava tedesco La sua prima lingua Era tedesca Come Obama Che non era veramente americano Esatto Infatti Trump Che è diventato presidente E quindi aveva ragione Su tutto L'ha detto da subito Fiduli Venezia Giulia Beh lì C'è la questione Del tiramisù C'è Prosecco Che è il posto Che dà il nome Al Prosecco Ma è fuori Adesso l'ha rimesso dentro Ma fino a qualche tempo fa Era fuori dalla zona Di produzione del Prosecco Perché Prosecco Non si può produrre Prosecco Adesso sì Gorgonzola Non si può produrre Il Gorgonzola È fuori dalla zona Sono quelle cose italiane Le storture italiane Però c'è il tiramisù L'abbiamo già parlato Diciamo che forse Le regioni di confine Poi comunque Però sul tiramisù Possiamo raccontare Perché è friulano Prego Perché il ministero Dell'agricoltura italiano Si è inventato i PAT Prodotti agroalimentari tipici E questa roba Ha mandato in besta Gli europei Perché l'Europa Ha le DOP e le IGP Non è che tu puoi inventare Le sigle così Come ti vengono E invece noi ci siamo inventati Questa roba qui E ogni anno Viene aggiornato l'elenco E viene aggiornato E' espanso Ogni anno ci aggiungono 100-200 prodotti A un certo punto Non mi ricordo Se non è 2015-16 Salta fuori Che il tiramisù E' friulano Cioè nell'elenco E' diviso per regioni E' friulano Scoppia il finimondo E' pronto a scendere in campo Per difendere gli interessi Di 4 milioni e mezzo di venditi Ma cosa ne frega 4 milioni e mezzo di venditi Se il tiramisù è friulano Però questo è quello che succede La cosa curiosa è che se andate a spulciare questo elenco Lo trovate sul sito del ministero E' fantastico Beh innanzitutto c'è la famosa Gli spaghetti alla bolognese Sapete come sono Col tonno E' un tipico piatto bolognese Spaghetti col tonno Il marzapane è di lucca Ah Mi interessa questo Le castagne al forno sono di avellino Non so perché Sono lì Ma non lo so perché L'intuizione ad avellino Inserire nel forno le castagne Non ce l'ha pensato nessuno Nessuno Cosa ce ne facciamo Poi adesso non mi vengono in mente altre cose Ce n'è per tutti i gusti Però questo è Però come si chiama quel piatto di vivo friulano Con il tuo formaggio Il frico Il frico Il frico Pordenone Mi hanno invitato a Pordenone a leggere l'anno scorso L'ho assaggiato Buono Buono Sì Però non so dire Ecco lì devo dire Ancora Daniele Soffiati Il podcast d'OI Mi dirà No non lo so la storia del frico Potrebbe essere effettivamente Ma è difficile Però Nel dubbio è difficile Sì Ecco io applico Lo scetticismo Ci sta Ci sta Sì è vero È vero Sono un po' scettico Allora scendiamo giù Quante non la Togliamoci il pensiero Togliamoci il pensiero Ne abbiamo Cosa No allora Sul parmigiano abbiamo detto del parmese Però La cosa vera Che manda in bestia Perché sai Wisconsin è lontano Vedo Sì si incazzano Però è una cosa lontana Ma il vero problema è Che il parmigiano per 150 anni Forse anche di più Non si produce A Parma Perché non ci sono le vacche da latte Tanto è vero Che quando Nel 1796 Nel 1797 arriva Napoleone in Italia Manda Gaspar Monge a Parma Perché gli dicono Che si fa un formaggio Che è facile da conservare E Gaspar Monge Che non è uno qualsiasi È un grande matematico Lo manda a Parma Dopo due settimane Scrive a Napoleone Dice Questo formaggio qui non c'è E non ci sono le vacche Quindi non si può Anche volendo Non si può fare Mi dicono Di andare a Lodi Che è dall'altra parte del Po E quindi oggi È zona di Granapadano E infatti Lui poi registra La ricetta La manda a Napoleone Con la dicitura Fromage Lodesan Di Ossi Parmesan Formaggio Lodigiano Detto anche parmigiano E quindi Il parmigiano Nasce dopo Nasce Nella seconda metà Dell'Ottocento Rinasce Nella seconda metà Dell'Ottocento Ma quindi Lodigiano Era diverso Comunque Da quello che poi Era il parmigiano Sì Il questione è che Noi non lo sappiamo Però Era Più o meno Quel formaggio lì Che si chiama Grana Adesso noi ci siamo Inventati Delle sotto Diciamo Delle sottozone Però sostanzialmente Quella roba lì Si faceva Tant'è vero che Appunto Boccaccio parla Del parmigiano Ma Pantalone Da confienza Il secolo dopo Dice sì Lo chiamano parmigiano Ma lo fanno a Piacenza Che oggi Piacenza È zona del Grana Non è zona di parmigiano Quindi insomma Ci sono un po' Di Volete l'aceto Balsamico Che fra l'altro È una grande storia Abbiamo un sacco Di denominazioni Abbiamo l'aceto Balsamico Di Modena L'aceto Balsamico Tradizionale Di Modena L'aceto Balsamico Tradizionale Di Reggio Emilia L'aceto L'aceto Balsamico Di Modena È IGP L'aceto Balsamico Tradizionale Di Modena E di Reggio Emilia Sono due Drop A un certo punto L'Europa ha detto Non è che state esagerando Basta L'Italia Furba Ma non furbissima Dice No Ma la protezione Si applica A tutto il nome Quindi Non è che Balsamico Basta Essere Protetto Bisogna Aceto Balsamico Di Modena Aceto Balsamico Tradizionale Di Modena E infatti Gli Sloveni Dicono Beh perfetto Facciamo L'aceto Balsamico Di Slovenia Ce l'avete detto Voi italiani Che si può fare E quindi Vabbè Però La cosa curiosa È che L'aceto Balsamico Tradizionale Di Reggio Emilia È stato Autorizzato Sulla base Di un Poema Che si chiama Vita Matildis Che Fa riferimento Alla vita Di Matilde Di Canossa E in questo Poema C'è un riferimento All'aceto Non Aceto Balsamico All'aceto E allora Siccome Canossa È in provincia Di Reggio Emilia Allora noi abbiamo Una tradizione Millenaria Di produzione Di aceto Balsamico Io faccio sempre Notare che Martiglia di Canossa È nata a Mantova Quindi Secondo me Ci potrebbe stare Dentro anche L'aceto Balsamico Tradizionale Di Mantova Di Mantova Non lo comprate Al supermercato Un boccettino così Costa 300-400 euro Non è che uno si sbaglia Dicevo Mi portavo a casa Nel carrello Mentre invece L'altro L'aceto Balsamico Di Modena Adesso lo so Perché io sono Uno di quelli Che prende solo L'aceto Balsamico Non prendo più L'aceto Quello tradizionale Sapete cos'è L'aceto Balsamico Che è Salsa di soia Quasi È aceto Con un po' di mosto Ma poco Ma soprattutto Il caramello Ah Che comunque è buono Ah sì È buono È buono Però Però A parte quello che non fa bene Neanche il caramello Vabbè Però non è che uno Si mette a bere L'aceto balsamico così Non so Non ho mai visto uno Bere l'aceto balsamico No No Non si fa Però in una pubblicità Ci mangiavano pure l'erba Mi ricordo Ah sì E Quindi Romagna No guarda Tipo il ragù Ah vabbè No il ragù Questa è una strada terribile Terribile No 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 Nel senso che adesso Ho appena depositato la ricetta La Camera di Commercio di Bologna La ricetta Quella Vera Che evidentemente sostituisce La precedente Vera Cioè quindi ogni volta Ce n'è una vera Ma ho capito Ma non è che si può andare avanti Con delle verità Che si sovrappongono O ce n'è una vera Se ci dite Che è quella cosa lì Era così dal 1200 Non è che adesso potete dire No ma questa è quella vera Che le prime ci sono sbagliati Insomma è anche un po' Una goliardata in realtà Quella di depositare la ricetta Fra l'altro sui tortellini Ci sarebbe da dire Che hanno Siccome hanno depositato Anche la ricetta Dei tortellini Che è solo 100% carne suina I tortellini I tortellini Fino alla seconda guerra mondiale Ma anche In anni 50 e 60 Erano quasi tutta carne bianca Era tutto pollame Capone Il maiale Arriva dopo Il primo che ci mette Un po' di maiale È l'artusi E ci mette la lonza E poi tutto il resto È carne bianca Carne nella cortile Non so se Questa piaceva No? Sì 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 E si metteva la panna Anche questa cosa qui Per cui adesso Se vai a Bologna E chiedi Tortellini con la panna Ti uccidono E poi ci si faceva È tradizionale Sì sì È tradizionale Ma quindi il ragù Quale era la ricetta vera? Cioè verissima La ricetta più vera Attuale Che è quella che hanno depositato Attuale sì Ma quella che hanno depositato adesso È quella con la carota Con un po' di pomodoro Con la carne Non so dirti Le procedure Cioè quanta cipolla Ci deve essere Il rapporto È davvero È una cosa quasi gogliardica Cioè non ha nessun senso Questa cosa qua Anche perché poi Se sono ricette tradizionali Per definizione Sono trasmesse oralmente Quindi ogni famiglia Si faceva la sua Insomma non c'era È davvero una cosa Ripetisco Un po' ridicola Ok Però non posso parlarne male Perché Uno dei Di quelli che hanno scritto La ricetta È un mio amico Allora Però mi pare che tu Ne abbia parlato male Salvo poi dire alla fine Non posso parlarne Si fa così No Sì 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 Hai rispettato l'etichetta Romagna Ma Romagna La cosa curiosa della Romagna È che mangiano meno maiale Adesso parlare della Romagna È un po' No vabbè dai si può fare No la cosa curiosa della Romagna È che uno dei loro piatti tipici È il castrato Perché la Romagna È la Roma Dopo la caduta di Roma Il nome deriva da quello E quindi ha mantenuto In qualche modo i legami Con il mondo bizantino E quindi maggior consumo Di rovini E quindi il castrato È una delle Delle basi Della cucina romagnola In un mondo Che invece è dominato Dal suino Perché questo Era un po' Tutta la storia dell'Italia E poi ci dicevi La piadina Ah beh La piadina si può fare ovunque Comunque Senza problemi Lì hanno fatto un IGP Hanno fatto il contrario Della focaccia di Recco Che non la puoi più fare Perché altrimenti Sei fuori dal disciplinare Se la fai Perché la focaccia di Recco È un prodotto mitico Che non si può fare Se la fai Stai sbagliando E invece La piadina romagnola È il contrario Qualunque cosa tu faccia È piadina romagnola È piadina romagnola Bellissima piadina Quindi quella che Stefano Ha fatto Gli hanno criticato In realtà È una bellissima piadina Piadina di pancare La cosa curiosa È che fino agli anni Ottanta Nessun Depplianturistico Della Romagna Citta la piadina romagnola Perché Non ne frega niente a nessuno Adesso 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 ti spiegano Che hanno inventato tutto loro La pizza È una piadina Che ce l'ha fatta La pizza È una piadina Che ce l'ha fatta Mi piace C'è un build up Però adesso dobbiamo andare in Toscana Toscana Vabbè ma Toscana Cioè Toscana Ovunque ti giri C'è una cazzata Sto ricevendo troppi applausi Cioè Questo pubblico Io di solito Sono abituato a combattere Col pubblico Aspetta che arrivi a Lazio Allora C'è la questione Dell'ardo di colonnata L'ardo di colonnata Non so Qualcuno è stato colonnata È grande come questa stanza Più o meno Allora Un maiale ci sta Due no Due non ci stanno Quindi non è possibile Cioè Tutto quell'ardo di colonnata Che tu trovi in giro Non puoi farlo a colonnata Non ci sta Proprio fisicamente O hanno trovato Beh che in Cina Li hanno fatti I palazzoni Ma a colonnata Non li ho visti Quindi non ci sono Ma Quindi è tutta una storia Tra l'altro A colonnata raccontano Gli schiavi Che lavoravano Nelle cave di marmo Durante Nel impero romano Che facevano il marmo Per costruire Roma Venivano nutriti Con questo alimento Così energetico Il lardo Il lardo era una roba I romani lo mangiavano Ma era una cosa da ricchi Non neanche lo davano Gli schiavi Niente se schiattavano Gli schiavi Nelle cave Se morivano Ne prendevano un altro Non era un problema Quindi questa È tutta una cosa inventata Poi tirano fuori Michelangelo Che quando andava Da quelle parti A scegliere I blocchi di marmo Per le sue statue Faceva incetta di lardo Non è scritto Da nessuna parte Non c'è un documento Storico Che attesti questa cosa E glielo ho detto A quelli delle cose Mi ha detto Eh ma per forza Venivo qui Per comprare il marmo Da nessuna parte Parlava del lardo E allora come fate a dirlo Cioè Il mestiere dello storico È quello di avere un documento Di avere qualcosa Che ti dice Però vabbè E tu poi sei andato anche Allora io sono Allora lì Sono andato Sono andato colonnata Però prima dell'uscita del libro Devo dire Con una certa preveggenza Poi invece sono andato Sono stato ospite Quando è uscito il libro A Forte dei Marmi Alla Versigliana E il giornalista Che mi ha invitato Mi ha detto Guarda ci sono quelli di colonnata Sono un po' arrabbiati con te Stai attenti Rischiamo contestazioni Infatti Sala piena Tensione in aula Quindi è una cosa E io Non mi ricordo Cosa mi abbia chiesto Ho cominciato a parlare E è partita la contestazione Dei colonnatesi Quelli lì E a quel punto Sono saliti E hanno cominciato Sono stati in piedi Quelli di Montignoso Che io non avevo mai sentito nominare prima Posto mai sentito E' lì Che fanno un lardo E dice Si ha ragione grandi Voi siete dei traditori Vi siete inventati Noi facciamo il vero lardo Voi lo siete E come si sono menati fra di loro E mi hanno lasciato in pace La conferenza è finita lì Stupendo Una storia toscana Ecco questa è una storia toscana Assolutamente Poi c'è molto bello Il prosciutto toscano Che frattro ha una storia interessante E pare che piacesse tantissimo Carlo Magno Il prosciutto toscano Non si sa perché A parte il fatto che Carlo Magno Quando arriva a Roma Per la notte di Natale dell'Ottocento Per essere incoronato Se andate a leggere Praticamente metà dei prodotti tipici italiani Lui li ha assaggiati E li ha apprezzati E ne ha fatto incetta Quindi quando lui è partito È arrivato dalla Svizzera Dal nord della Lombardia Attraversato Poi essendo tedesco È andato subito Nella riviera romagnola È andato a Ravenna Poi è sceso E ha fatto il coso Poi ha attraversato di nuovo l'Italia Rieti Ha preso il cacio Magno Ha fatto un'incetta di tutto Poi è arrivato a Roma E infatti A Roma Non Quando riceve l'incoronazione dal Papa Non mette il vestito Classico dei Franchi Ma mette la tunica romana Perché non ci stava più dentro Aveva fatto tre mesi a mangiare E quindi Però non sappiamo niente Del suo viaggio di ritorno Secondo me è solo tisane Detox Non sappiamo niente Del suo viaggio di ritorno D'altro spiego tutto Il ritorno è stato più E quindi ti può invece La Fiorentina Ma Allora Anche lì La questione della Fiorentina Allora ci sarebbe La questione della Fiorentina È che adesso Se tu Sei meno di tre dita E il Carpaccio Ma di cosa parliamo Cioè È roba che Appunto Qui negli ultimi vent'anni Ci sono inventate cose La cosa più divertente È quella del Lampredotto Che era palesemente sparito Adesso anche quello Negli ultimi 15-20 anni È ritornato Il Lampredotto era un prodotto Da poveri Da disperati Come il pane cameusa A Palermo Insomma in Sicilia Era Diciamo Il quinto quarto Quella cosa Che appunto Mangiavano Quelli che non avevano Nient'altro da mangiare E come dico sempre Quando sei ricco È molto chic Fare il povero È il contrario Che non si riesce mai a fare Questa è veramente La maledizione Di questa società Però appunto Questa Cioè Però i toscani Se ne sono inventati Ogni posto che vai C'è sempre una storia incredibile Caterina De Medici Ha insegnato tutto a tutti Fra l'altro E la cosa bellissima È quella della besciamella Che era La salsa colla Toscana Che poi Caterina De Medici Ha mandato in Francia Poi è tornata indietro E nessuno si ricordava Cioè gli italiani Sanno anche bravi cuochi Ma devono mangiare più pesce Perché non si ricorda niente Cioè Gli Alain è andata in Francia Un mese dopo Torna indietro Besciamella Interessante Te l'hai detto a tu Che era quella roba Quindi Va bene Queste Storie Umbria Umbria non c'è Umbria Umbria Qualcuno deluso qui No sto pensando Un popolo Umbro Sto pensando Allora Umbria mi verrebbe da dire Cioccolata Per Perugino Ma non si può Dai È un prodotto industriale Perché non mi viene in mente niente Cioè Come Ma sì Ma ci sono I tozzetti Ma sì ci sono Sì Allora io sono stato in Umbria E ci hanno La Ci sono stato anche recentemente A Perugia Sì Ci hanno tutte quelle cose lì Ma insomma Secondo me Ecco A Perugia Ci hanno quella torta O a Terni Che ci hanno quella torta Particolare E No ma insomma Sono tutte invenzioni recenti Mi sembra Però Devo dire che su Ho detto mi sembra No no ma vabbè Posso dire Apprezzo che vedi L'Umbria Ne esce immacolata Sì ma a me piace molto l'Umbria Sono un grande appassionato di Umbria E invece di Marche E beh Marche Dai vinci sgrassi Tutto È tutta roba che Allora Che c'è Perché in realtà Un po' di tradizione c'è Vinci sgrassi Sono delle lasagne Alla fine E quindi Le facevano dappertutto Come veniva E lì Le hanno fatte così Poi a un certo punto Negli ultimi 30-40 anni Abbiamo detto Adesso facciamo Il nostro piatto tipico Però questo è un po' La questione Adesso diventa un po' difficile Perché l'Abruzzo No Abruzzo Ma i rosticini Ah beh Anche quello Beh però Quella è una cosa interessante Tra l'altro Questi sarebbero I pastori Che poi hanno fatto Buona parte Della cucina romana Sì perché poi sono No non possiamo parlarne male Io sono d'accordo Ma se i rosticini Perché non Ma no I rosticini Sono spiedini Ma tra l'altro La questione della carne È l'opposto Di quello che consideriamo Noi oggi Cioè noi per oggi Per noi oggi La carne più fighetta È quella cruda Quando vogliamo fare Una tartare Il carpaccio Facciamo quelle cose lì E invece Nell'antichità Era la cosa Da disgraziati La carne cruda La seconda categoria Di disgrazia Erano gli arrosticini La carne arrosto Quella era proprio Una roba Cioè se proprio Non sei capace Di fare niente Fai la carne arrosto Invece la cosa Più chic Era la carne lessa Il lesso Era la cosa Più Adesso per noi Il lesso È la cosa più Da sfiga Non si può dire Ho detto una parolaccia No 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 Hai detto peggio Su Milano Quindi Ti preoccupare Ti preoccupare E ci siamo Sì Siamo qua Il Lazio Va bene Il Lazio Adesso Non vorrei fare Il Lazio È una tacca sotto la Toscana Come capacità di inventarsi Cazzate Però insomma La carbonara La matriciana Caccio e pepe Io vedo sempre Quella cosa Per cui c'è un albero Genealogico Dalla gricia La matriciana Quella mi manda in bestia Perché è proprio Totalmente inventata Però devo anche dire Che sempre Adesso Captazio benevolenza Io amo La cucina romana Perché è ebraica Perché è giudaica Cioè questa È una cosa Che considero Un valore Ecco Questa forse Ha una sua Una sua storicità Ovviamente Frutto di un'evoluzione Ma comunque Ce l'ha Un po' di storia Fuori da Roma Insomma anche A Rieti Appunto C'hanno il cacio Cacio Magno Che appunto È questo formaggio quadrato Che l'ha scoperto Carlo Magno Ma ce la sono inventata Dieci anni fa Tant'è vero Cioè È una cosa Non è male Fra l'altro A Rieti Fanno anche La birra Spalmabile Guarda Quella è una cosa Interessante Non so C'è una pasticceria Che fa la birra Spalmabile L'ha assaggiata L'ha assaggiata Insomma Non è che uno Non ci dorme la notte Però Insomma Sul formaggio Ecco Me l'avevano detto Me l'avevano detto Ecco C'è qualcuno Di Rieti È certo No insomma Però Però anche questa È una cosa Recentissima Dopo di Adesso Ma invece Sai qualcosa Sull'origine Del nome Suppli Perché In alcuni posti A Roma Puoi leggere Che viene Da Surprise Surprise La sorpresa Lo dicevano i francesi Quando stavano A Roma Ma allora Guarda Potrebbe essere Nella misura In cui Prima dell'Artusi Fondamentalmente Non c'è Un linguaggio Gastronomico Italiano E quindi Tutto è un po' Francese E quelli ricchi Se volevano mangiare bene Non mangiavano A chilometro zero Si inventavano E imitavano i francesi Quindi Questa cosa qui Può anche essere Cioè che ci sia Una cosa I cuochi In Sicilia E anche a Napoli Si chiamavano Monsue Che Che palesemente Monsue Quindi Quindi ci può stare Che ci sia Una derivazione Francese Nel nome Dopo devo dirti La verità Non ho approfondito Il tema Anche perché Poi sulla questione Dei nomi Ho sempre dei problemi Prima perché Me li dimentico E quindi E poi perché Trovo sempre Che ci sia Una dimensione Linguistica Che non è Nelle mie Nelle mie competenze Quindi comunque Carbonara Fatta da Degli americani Degli americani Sì La matriciana Non si sa però No la matriciana Forse ha un po' Di storia Anzi Ne ha sicuramente Pettini Il cuoco De Savoia La faceva Già prima Della prima Guarda mondiale Però appunto C'era la cipolla C'era la pancetta Addirittura C'è la ricetta Quella famosa Di Aldo Fabrizi Ci mette il dado Il peperoncino Lo zenzero Delle robe Inaudite E quindi E poi pancetta E guanciale Insieme Insomma Quindi c'è Davvero Una cosa A un certo punto C'è una ricetta Molto interessante Di matriciana Con la coppa E quindi ho detto Se stiamo attenti La inventano a Piacenza Perché la coppa È piacentina Quindi Mentre la peperoncino Caccia e pepe Caccia e pepe Ma sì Caccia e pepe È abbastanza semplice Insomma Ci sono le fettucine al freddo Quella è Quella è Un'altra mia battaglia Perché le fettucine al freddo Sono l'opposto Del tiramisù Perché Ammettendo Che Il tiramisù L'abbiamo fatto Le becchierie Treviso Ma Come ho già detto Finché non diventa Un prodotto domestico Finché le casalinghe Nelle pirofile Non fanno Con i povesini Non fanno Le fettucine al freddo Noi sappiamo L'anno di nascita Sappiamo Il luogo di nascita Secondo me Se è indagare Sappiamo anche il giorno Perché sappiamo Che la moglie di Alfredo Era incinta Anzi Aveva appena partorito Quindi 1912 Adesso non so Il figlio di Alfredo Quando è nato Però Se è voluto indagare Riusciamo anche a trovare il giorno Il problema è Che questa roba qua Diventa subito Una cosa americana Perché ci sono queste due Star americane Che arrivano a Roma E si innamorano Di questo piatto E in pratica Non diventano mai Un prodotto italiano Cioè nessun italiano Ma nemmeno i romani Dove sono nate le fettucine al freddo Le riconoscono come piatto tradizionale Anzi noi lo consideriamo proprio Un'americanata Le fettucine al freddo Eppure Se c'è una cosa Della quale Siamo certi Sono nati in Italia Sono le fettucine al freddo Sappiamo chi E quando E dove Via della scrofa Via della scrofa E ci siamo Ci siamo Aspetta ma ci siamo O vogliamo fare Tutto il giro Per poi tornare No no Io direi Affrontiamo questa Togliamoci il dente Togliamoci il dente Tanto poi Tanto poi ci sarà altro Cioè comunque Più andiamo a sud Più c'è pericolo Di morte Esatto Allora Aspetta Vi dico che Quando è uscito il libro Cioè mentre Mentre si stava facendo il libro Appunto L'editor mi dice Dobbiamo avere un nemico In ogni regione Poi è saltato fuori Che tre capitoli Sono sulla Sicilia Quindi c'è il Marsala Il cioccolato di Modica E il pomodoro di Pacchino Avevo il quarto capitolo Sulla Sicilia Che era il pistacchio di Bronte Dove dicevo Che se tutti i pistacchi di Bronte Che ci sono in giro per il mondo Venissero effettivamente da Bronte La Sicilia sarebbe grande Come l'Australia Più o meno Perché è impossibile Questa cosa qua E allora Però l'abbiamo tolto Perché Perché A me la Sicilia piace Anzi Infatti poi a Modica ci vado Quindi Cioè che è arrivato un pizzino Esatto Quindi siamo rimasti Siamo lì Siamo alla Campania Allora La Campania Noi amiamo Amiamo la Campania Amiamo la Campania Scusa però Diciamo Amiamo anche molto La Napoli La pizza La pizza Abbiamo tantissimo Masta pizza Allora La pizza È un prodotto Che nasce a Napoli Nella misura in cui nasce Un po' dappertutto Cioè nel senso Che una cosa così Si fa più o meno Dappertutto È vero che Gli osservatori Già inizio Ottocento Individuano Nella pizza Napoletana Qualcosa di un po' Diverso Da quello Che si mangia Dalle altre parti Perché effettivamente Pida Pita Pissa Insomma Però Quella di Napoli Ha delle sue caratteristiche Particolari Ma sono tutte Caratteristiche negative Cioè Tutti 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 gli osservatori Sono Concordi Nel dire Che la pizza È una grande schifezza Ed è una cosa Proprio brutta Ma anche i napoletani Lo dicono Cioè La mangiano Per disperazione Nel senso Che dicono C'è un famoso Sono giornalista Matilde Serrao Matilde Serrao Che scrive questo libro Il ventre di Napoli Dice C'è una cosa certa Nessuno mai mangerà la pizza Cioè Solo a Napoli Possono mangiare Una roba del genere Già Lei dice A Roma Non arriverà mai la pizza Quindi Si è sbagliata Perché è andata anche Molto dopo Roma E Collodi Dice È una schiaccia Bruciata E sudicia La definisce così Collodi Collodi Pinocchio Fra l'altro È molto bello Pinocchio Perché Pinocchio La parola più frequente Pinocchio è burattino La seconda parola più frequente È fame I personaggi di Pinocchio Sono ossessionati Dalla fame E quindi Eppure gli fa schifo la pizza Nonostante tutto Nonostante la fame Che aveva Gli fa schifo la pizza Quindi tutti Dumas Dice che è una cosa Dumas La paragona Alla galletta Del marinaio E dice Che si può mangiare Dopo sette giorni Adesso Mangiate una pizza Dopo sette giorni Poi mi dici Cosa salta fuori E quindi Insomma I giudizi sono Molto negativi La storia della pizza La storia della pizza Margherita Lasciamo stare No ma fra l'altro Guardate è appena uscito Un libro molto bello Di Luca Cesari Che è la storia della pizza Dove addirittura Fa un'analisi filologi Il famoso documento Che attesta il fatto Che è esposito Ha portato la pizza Alla regina Margherita È un falso È un falso Il falso degli anni 30 Insomma Quindi Vabbè Comunque Lasciamo stare Questi dettagli La pizza È quella roba lì La si condiva Tendenzialmente Con l'aglio E con la sugna Quindi era bianca Forse qualcuno Cioè Nell'elenco Dei possibili ingredienti C'è il pomodoro Ma non la salsa di pomodoro Cioè All'estate Ci tagliavano su Qualche fetta di pomodoro Perché questo Pesciolini Ci mettevano Quello che avevano E Quando volevano fare i ricchi Ci mettevano l'olio Ma era proprio una cosa Da Una sciccheria Ma era una cosa Da disperati La pizza Era Il L'alimento Dei più poveri Perché Dopo c'erano i maccheroni Ma prima C'era la pizza E quindi Aveva questa caratteristica Poi Gli italiani I napoletani Vanno in America E lì Per una serie di questioni Anche legate Alla disponibilità Di alcuni ingredienti La mozzarella E il pomodoro In particolare La salsa di pomodoro La pizza Si arricchisce Diventa un simbolo Ma guardate Questa cosa qui Adesso L'ho detta io E quindi A Napoli Mi hanno dato Del terra piattista Sul mattino di Napoli Vengo definito così Ma Questa cosa qui È consolidata Cioè Adesso che la dica io È irrilevante I sociologi Gli antropologi americani Parlano apertamente Di una cosa Che si chiama Pizza effect Cioè Di un prodotto Che nasce in un luogo Va in un altro Per effetto Per effetto delle migrazioni Si arricchisce Cambia anche sostanzialmente Torna nel luogo di origine E diventa un simbolo Perché Fra l'altro Questo modello È stato costruito Non tanto sulla pizza Ma sui Samosa Indiani Che anche questi Hanno fatto più o meno Lo stesso giro Quindi È una cosa Consolidata È storia Non è che la dica io Perché Sono eccentrico Perché Mi piace Fra l'altro Io amo Napoli Sì L'ho già detto Abbiamo già detto Però è importante Aprire e chiudere Ogni discorso Dicendo io amo Napoli Amo Napoli Esatto No Ma Fra l'altro Poi ecco Un'altra di quelle cose Un po' strane Che sono successe Con l'intervista Del Financial Times Ma poi anche Con altre Con altre uscite È che Una delle cose Delle quali vengo Accusato È Che Io sono Il classico Nordista Che va A sputtanare Il sud La città di Napoli Che sputa Sulla città di Napoli Ho dovuto spiegare Che il titolo originale Del libro Era Il vero parmigiano Lo fanno nel Wisconsin Che per uno Che lavora a Parma Mi metteva Al di sopra Di ogni sospetto Dal punto di vista Del razzismo Però Ho la sensazione Che Questa cosa qui A Napoli Diventi Particolarmente Diciamo Rilevante E provochi Reazioni Perché Sotto Sotto Lo sanno Ma se glielo Dici tu Sì Se se lo dicono Fra di loro Quando sono al bar È una cosa Che Fra di loro Se lo dice uno Non di Napoli Diventa antipatico Tra l'altro Io sono anche Dell'idea Che anche Il caffè sospeso Sia un'invenzione Ma Vabbè Non voglio Entrare In quel Pure quella Americano Allora io C'ho due cose Due cose nuove Il caffè sospeso E il cappuccino Il cappuccino Secondo me Hanno ragione I tedeschi A berlo dopo Pranzo Storicamente Così Si si beve Dopo il pranzo Questo sai A chi hai fatto Tanto male Con questa cosa A quel ragazzo Se Stefano Il cappuccino Io me lo mangio Ci metto I cornetti Però La mattina Tu ho visto Bere solo la mattina Si 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 Però se me lo mangio Tu sei contento Quando voglio Qualunque ora Ci sono motivi Per dire Che hanno ragione I tedeschi Quali sono I motivi sono Che in realtà Il cappuccino Nasce per rispondere Alle esigenze Dei tedeschi Guarda Mentre venivo in treno Mi sono guardato Tutto specchio segreto Di Nanni Loi Non so se vi ricordate Quello dove lui fa Zuppetta È al bar C'è Una puntata a Bologna Una puntata a Roma Non c'è Il 1964 Nessuno Non esiste Il cappuccino Non c'è Ci sono alcuni Che hanno il caffè latte In bicchiere Ma tutti gli altri Con il caffè è normale Il cappuccino Ha bisogno Di un supporto tecnologico Che è la macchina D'espresso di Gaggia Che ha il beccuccio Con il vapore Nasce nel 39 Questa macchina Ma insomma Per tutti gli anni 50 Praticamente Non ha nessuna rilevanza Esplode in Romagna A proposito E perché? Ci sono i tedeschi Che vogliono il cappuccino Non sono gli italiani Che lo vogliono E il caffè sospeso? Ma il caffè sospeso Secondo me è una roba Che si è inventato Luciano De Crescenzo Negli anni 80 Cioè Magari c'era Tanto Tanto tempo fa Ma poi era una cosa Che era accaduta Completamente in disuso E poi è diventata Una questione Folcloristica Ma è un'invenzione Recente È una reinvenzione Ma d'altro canto Tutte le tradizioni Sono inventate Continuiamo col giro Avevamo saltato Il Molise Che però c'è Il Molise non esiste Perfetto Allora passiamo Questo Con l'editore Avevamo trovato L'accordo Va bene tutto Tranne il Molise Va bene Ci spiace Ci spiace Scendiamo giù Andiamo in Puglia Che abbiamo detto I crudi di pesce Li hanno presi Dai giapponesi Dai giapponesi Ma allora Beh ci sarebbe Lo Zinfadel Che è il primitivo Ah Che è un vino Che arriva dall'America Ah si? Si In realtà Di una storia strana Non si capisce bene Perché Quando Individuano il primitivo In realtà In America L'avevano già Individuato Quindi Può darsi Che abbiano fatto Un po' i furbi Però Però Che male Chi se ne frega No certo Anche questo è vero Chi se ne frega Però è vero Che i pugliesi Ecco La Puglia Faceva un olio Scarsissimo Ah Ci interessa Interessa questo Adesso Se la tirano Tantissimo Sull'olio Ma in realtà L'olio pugliese Era il peggiore Di tutti Ah penso Ma per motivo tecnico Per come la raccoglievano Perché E invece Ecco Su questo i toscani Erano bravini Sull'olio Eh sì Perché loro Avendo una maturazione Tardiva Lo andavano a prendere Sulla pianta L'oliva E quindi Questo rendeva Poi Diciamo L'olio estratto Di maggiore qualità Invece I pugliesi Lo facevano Cadere Il frutto E poi lo raccoglievano Quindi Rusco e brusco Tiravano su E poi La roba che veniva fuori Era di scassa qualità Poi arrivavano i toscani Glielo compravano E lo mescolavano E facevano il carapelle Il sasso Il grande classico Esatto Questa è la tradizione italiana Spacciare oli minori Per oli mattoni Questo l'abbiamo fatto tutti Ma fra l'altro L'Italia non è autosufficiente Dal punto di vista dell'olio Noi il 30% lo importiamo Quindi Quindi Ne abbiamo bisogno Di olio Tendenzialmente Spagna Grecia Ma anche Nord Africa Quindi Sì Non c'è niente di male E' interessante La storia dell'olio Interessa Dante 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 L'olio Dante Ah pensavo Dante No 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 L'olio Dante Abbiamo fatto pubblicità Anche su questo No Sì È una marca È una marca Si chiamava Costa E E Però Gli italiani in America Lo consideravano Un cognome portoghese E quindi Poi alla fine Cambia l'etichetta E Diventa Dante Perché è Dante Insomma È palesemente italiano Nessuno mette in dubbio L'italianità di Dante Però è una questione commerciale Basilicata Basilicata C'è l'Anduia Quella Allora L'Anduia Sì Non è calabrese Ah Basilicata Scusami Ho confuso No no Pensavo No 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 Ho sbagliato io Ho sbagliato io Basilicata Ah beh No aspetta Questo è interessante Questo è un episodio divertente Quando è uscito Denominazione di origine inventata Mi ha scritto Il presidente del consorzio Della lenticchia Di altamura IGP E mi dice Lei professore Rovina i nostri prodotti Noi stiamo difendendo Un prodotto Che ha garantito La ricchezza Dei contadini Di altamura Per mille anni Poi è arrivata L'industria E hanno smesso Tutti di farlo Ho detto scusate Se erano ricchi Stavano a fare Quello che facevano Evidentemente Così ricchi Non erano Se le aree industrie Tutti se ne vanno Quindi E quindi Questa cosa Mi ha fatto un po' ridere Però esiste L'antichia di altamura Ma esiste anche Il pane di altamura Ma il pane Tutti lo fanno Quindi non si capisce Perché Quindi questo pane Di altamura No ma ognuno lo fa Come? Dice la fine è pane Ma sì No ma no Nel senso Ognuno Questa è una storia interessante Però ogni città È convinta Di avere il pane Migliore del mondo L'Italia sicuramente Ma del mondo in particolare Che è un po' vero Un po' no Però le regole Sono fatte Perché bisognava Fare in modo Che i proprietari Terrieri vendessero A buon prezzo Il loro grano Questo Però le regole Per fare il pane Sono effettivamente Molto antiche E questo ci differenzia Ecco questo ci differenzia Dalla Francia La Francia a un certo punto Ha detto Sapete cosa c'è Il pane si fa così Basta E non è che Stai lì a discutere Gli italiani Un po' per nostra indole Anche se uno dice Si fa così Poi dopo c'è sempre Quello che Che la fa in un'altra maniera E quindi abbiamo tutti I nostri meravigliosi Pani italiani Che comunque È sempre bello Quando vai in un posto Vai al ristorante Ti riportano il pane E dici Vediamo Il pane si Io che vado in Toscana Al mare Odio il pane In Toscana Non sa di niente Se non ci sei cresciuto Dici ragazzi Però è così facile Ce lo mettete Ma fatemi Cosa vi ha fatto E' vero che Per tesi Però Siamo anche qui A sezione Calabria Calabria C'è la storia dell'Induia Questa l'ho scoperta Poco tempo fa Perché ho conosciuto Ego Non so se avete presente Il film Ratatouille Sì Allora Io Ero in questo convegno All'università degli stranieri A Perugia Incontro Ego Dico C'è Ego Invece ho scoperto Che esiste Che si chiama Luigi Cremona E' un grandissimo critico Eno gastronomico Un personaggio davvero Fra l'altro Davvero interessante Ma è identico a Ego Ma andate a vedere Qual è Ego? Ego è il critico Quello Ok Ma fra l'altro poi Dopo aver visto questa cosa Sono andato a cercare Effettivamente ho scoperto Che pare proprio Che gli autori di Ratatouille Si siano ispirati a lui Perché sono venuti in Italia E hanno visto questo personaggio E' identico Identico Una cosa incredibile E fra l'altro Siccome poi ci siamo scambiati Il numero Su Whatsapp Lui c'ha la foto di Ego C'è l'immagine Perché ormai E quindi così Mi ha spiegato Che l'Anduia Fino al 1990 Non esisteva Fino al 90? 90 Cioè la faceva un produttore Ed era una grandissima schifezza E poi invece L'hanno L'hanno arricchita L'hanno L'hanno trasformata E adesso è diventato Un prodotto Però stiamo parlando Di 30 anni fa Sì Vedi questo non me l'aspettavo È incredibile Uno pensa Fra l'altro Ecco su questo Questo molto interessante Vito Tetti Grandissimo antropologo Calabrese Adesso in pensione Insegnava All'università della Calabria Arcavacata Rende Lui Ha scritto un articolo Molto bello Che dice La cucina calabrese È nata in America Quindi molto prima di me Fra l'altro L'ha scritto E dove dimostra Insomma che Praticamente Tutte le specialità calabrese Sono frutto di questo scambio Perché anche i calabresi Sono molti Sono andati in America Molti sono tornati Quindi tutta la pasta Tutte le cose Sono Diciamo Acquisizioni successive La grande migrazione D'inizio novecento Adesso dobbiamo attraversare Lo stretto E leggerci forte La Sardegna niente No Ci arriviamo alla fine Che forse è la più pericolosa Di tutti No no Però sto La Sicilia La Sicilia Allora Pistacchi No no Ascolta Abbiamo già detto No Il cioccolato di Modica Il cioccolato di Modica A me piace A voi piace A me non piace Il cioccolato in generale No Allora Nel mio ultimo libro C'è Siccome c'è un capitolo Dedicato al cacao Dico questa famosa frase Per cui Nove persone su dieci Amano il cacao Il cioccolato La decima mente Tu sei quello che mente Io mento Però No ma La Beh Il cioccolato di Modica Ha quella caratteristica Per cui viene lavorato a freddo Il burro di cacao Non si amalgama Con lo zucchero E quindi mantiene Quella consistenza Sabbiosa Perché appunto Mantengono La granulosità Non so come dire E tutta la storia Che si racconta È che sono stati Gli aztechi Che avevano inventato Questa tecnica Di lavorazione Poi gli spagnoli Conquistadores Hanno rubato Questa ricetta Agli aztechi E poi Siccome la Sicilia Esattamente come il Messico All'epoca nel Cinquecento Faceva parte Dell'impero Del Regno di Spagna Qualcuno Da là È arrivato In Sicilia E Lì ha attecchito Questa ricetta Che è rimasta Dal Cinquecento Fondamentalmente Fino ai giorni nostri Il piccolo particolare È che gli aztechi Non avevano Lo zucchero Quindi Quella roba lì Non la potevano Anche volendo Non la potevano fare Quindi È un'invenzione Fra l'altro Quando hanno fatto La prima candidatura Il cioccolato di Modica È un IGP Quando hanno fatto La prima candidatura Hanno raccontato questa storia E per quanto a Bruxelles Tendano a credere Sono di bocca Sono un po' De creduloni Hanno detto Lasciamo stare i popoli estiti Esatto Lasciamo stare Non possono difendersi E quindi Questa roba È stata respinta Ci hanno riprovato Nel 2018 Ci sono riusciti Con un'altra storia Che secondo me È ancora peggio Perché Hanno dimostrato Hanno trovato Un documento Del 1746 Qualcosa del genere Della famiglia Grimaldi Perché i principi di Monaco I Grimaldi Sono originari di Modica Hanno trovato questa cosa Dove il cuoco Della famiglia Grimaldi Comprava del cacao E quindi Hanno dimostrato Che la lavorazione del cacao Era molto antica A Modica Io ho detto No, avete dimostrato Che i Grimaldi Erano golosi Non è che avete dimostrato Chissà che cosa Però Questa volta Ce l'hanno fatta Basta un piccolo collegamento Basta una cosa minima Sì Ma è veramente molto labile In realtà Insomma lì c'è una storia Abbastanza nota A buon aiuto Che è questa pasticceria Che insomma Negli anni Ottanta Comincia a produrre Questo cioccolato Peraltro poi Nella mia ricostruzione Io cito Sash Sash Che Con Manuel Vázquez Montalban Fa questa doppia intervista E racconta Di questo cioccolato E siccome Sash Muore nell'89 Se non ricordo male Dico Potrebbe essere precedente Ma non tanto precedente Ma in ogni caso La Gli aztechi Siamo già estinti Da 500 anni Quindi comunque Non c'entrano Con questa storia Il pomodoro di Pachino È israeliano Ma sì Non si può dire Ma insomma È un ibrido Comunque israeliano Lì abbiamo La data di nascita Il luogo di nascita Tel Aviv 1989 La Zera Genetics Inventa questo prodotto A Pachino Non sono neanche Tanto contenti Perché loro facevano I cuori di bue Gli insalatari Insomma Il pomodoro di grossi Quella roba lì Non sembrava opportuna Poi invece Siccome ha delle caratteristiche Particolari Soprattutto dura molto Dopo il raccolto E quindi Da punto di vista commerciale È utile E quindi diventa Questo prodotto straordinario Il Marsala invece Vabbè Quello lo fanno gli inglesi Questo insomma Woodhouse Ringham Si sa Insomma L'hanno inventato loro Questa è una storia bellissima Perché va sul mercato inglese Come Madera Quindi Proprio Un prodotto di imitazione A un certo punto Passa il nome Sicili Madera Che non c'entra C'entra Perché effettivamente Marsala è in Sicilia Ma il nome più bello È Bronte Madera Bronte dall'altra parte Rispetto a Marsala Ma Perché Il testimonia L'era Orazio Nelson Che è il duca di Bronte E quindi Come Garibaldi Se andate a vedere Ancora adesso Il Marsala Quello dolce È GD Che sta per Garibaldi dolce Quindi Garibaldi in Inghilterra È idolatrato Il Nottingham Forest La maglia rossa È rossa E si chiama Garibaldi Bellissimo Quindi Finiamo con La Sardegna La Sardegna Posto più pericoloso Ma no La questione è che la Sardegna È È un posto È come la Scozia Cioè È un posto di È vero Ne abbiamo già parlato Anche di Simpson Sì Infatti Lo trovo filologicamente Molto corretto Che il Bidello Di Simpson Sia scozzese Ma parli sardo La La No Nel senso che Loro sono montanari Non sono Cioè Quindi La cucina La Sardegna È cucina di terra Non è Però Tutta la Eh beh Il caso Marsu Quello con i vermi Ma lo facevano tutti Cioè Non è che Lo facevano Soprattutto Solo i sardi Il filo ferro Quello Che raccontano Che lo sosterravano E tenevano fuori Il filo di ferro Tutte balle Sono tutte strade inventate Tutti distillavano tutto Quindi Non c'era motivo Di nasconderlo sotto terra Non so Sono stato troppo vago Anche la Sardegna A me piace molto Devo dire Sì No Sto Sto pensando A qual è una regione Che non mi piace No Ho un'ultima domanda Non lo dire forse Ho un'ultima domanda Siamo in chiusura Che abbiamo sequestrato Tutti quanti Sì No Io volevo dire Due cose Due cose Io Allora Ce n'ho una Poi ti lascio in passo a Stefano Sì Studiando Queste cose Ricercando queste cose C'è Un alimento Che Ti ha dato fastidio Dover scoprire Non essere quello che pensavi Cioè A te non è mai capitato Di essere Come si suol dire Triggerato Quando dicono Ah Questo piatto qua In realtà E tu dici Ma come no Non ti è mai successo Perché No Questo è quello a cui Veniamo sottoposti Quando ascoltiamo Doe Quando leggiamo Il libro Che a un certo punto Arrivano i piatti A cui noi teniamo E facciamo Allora No Non è mai capitato Perché a me Cioè io di indole Sono rompiballe E quindi Ogni volta che scopro Che è una cosa Una storia diversa Da come viene raccontata Godo E se uno me la racconta lui Godo lo stesso Cioè mi piace Io sono Non è che io voglia avere La L'esclusiva del debunking Va bene se lo fa anche qualcun altro Basta che me lo racconti Io Ho un momento di eccitazione No No Bacissimo Stefano Io tu Abbiamo aperto Dicendo Tu hai avuto tutte queste critiche Per un articolo del Financial Times E quindi Sei stato Insultato Da Da Chiunque Gli italiani Principalmente Ma anche appunto Da Cioè Esponenti del governo Salvini Dalla Goldiretti Anche eccetera Comunque tutto questo Questo odio Che hai ricevuto sui social Cioè come Come l'hai vissuta Questa cosa Al di là Del farci le battute Cioè come Quei giorni Come è stato No No Io Ho detto Io sono rompiballe Cioè quindi In realtà Non mi è dispiaciuto A parte il fatto Che il libro È rientrato in classifica Ah vedi Quindi L'editore Almeno adesso Non mi sono ancora arrivati Di riterutore Però immagino Che ci sia Una ricaduta positiva No Guarda L'unica cosa Che davvero Mi ha dato fastidio È Sono Quando Vengo E sono stato accusato Anche in televisione E ho fatto una scenata Devo dire Che mi capita Ogni tanto Me l'ho fatta Quando vengo accusato Di fare Di dire Tutte queste cose Per Voglia di visibilità Allora Il libro è di cinque anni fa Il podcast ormai È un anno e mezzo La prima volta Che ho parlato Del parmigiano Del Wisconsin È stato nel 2009 Quindi ormai 14 anni Che racconto Sta storia Quindi sono anche Stufo io di sentirmi Quindi Se adesso Se ne sono accorti Dopo l'intervista Dei Financial Times È un problema Di chi non mi ha ascoltato Un anno fa Ho fatto l'intervista Identica al Corriere della Sera Ma forse Anzi Addirittura anche più dura Nessuno ha detto niente Quindi solo Quando sei andato Al Financial Times La gente se ne accorta Quindi non ho cercato Visibilità io Sono stati gli altri Che Legittimamente Se prima non ne frega niente Di quello che dicevo Adesso invece Li interessa Ma è un problema loro C'è una scelta loro Non è una scelta mia Che poi la problematica È nata anche Perché hanno Descritto male I giornali italiani Quello che è stato detto Sì sì Guarda lì Non sapevo Di questi meccanismi Io non sono Molto Sì appunto Daniele Mi costringe Su Instagram Ma non sono Assolutamente social Non avevo capito Questo meccanismo Lì ho visto Chiaramente Quando c'è stata La prima testata italiana Che ha ripreso L'intervista del Financial Times È stato il messaggero Che ha scritto Il parmigiano è nato Nel Wisconsin Cosa che ovviamente Non ho mai detto Tutti gli altri Hanno fatto copia e incolla Tutti Compreso Il mio editore Ma vabbè Lasciamo stare Questi dettagli Sono un po' Un po' curiosi Ti chiedo S'ultima cosa Tu quindi Hai rischiato Anche diciamo così Di venire Picchiato Nella tua vita Ma Paralosalmente Non per queste Ragioni Ma perché Ti hanno scambiato Per bassetti Possiamo dire Questo Sì sì È vero Qua a Roma Fra l'altro In via del corso È successo Una signora Dice Ma tu fai politica Io ho fatto Tante cose sbagliate Compresa questa E E quindi Ho detto Ma è strano No no Ah no Sei quello Che ce l'ho ammazzato Tutti con i vaccini Allora Io ho detto No guardi Gli ho fatto vedere Il documento Guardi non sono Una delle cose E hanno detto Ah meglio per te Sei fortunato Che non sei Bassetti Questa è stata La mia fortuna Però Adesso io ho la speranza Che Bassetti Venga scambiato per me Questo mi farebbe molto Cioè sarebbe bello Tu sei quello Che dice Che la carbonara L'hanno fatta gli americani Sì Ma se va a Milano Bassetti alla fine Dopo sto podcast In Lombardia Si deve guardare le spalle Va bene Tu non hai altre domande? No No ci siamo Guarda che ci siamo Neanche quelle classiche Dopo Cioè Ok ok Sì sì dai Di Costa Non parliamo di Francesco Costa No no L'abbiamo accennato prima La becità Ok Sì sì Che salutiamo Amico del podcast Che ci ha fatto Scoprire E ti ha fatto anche Che mi ha anche difeso Devo dire E ha fatto l'hashtag Salvati i soldati grandi Sì sì giustamente Perché eri sotto assedio Da parte di questi Facino Rosi Facino Rosi Del cibo Del cibo Facibo Rosi E su questa stronzata Vi chiedo un altro applauso Per Alberto Grandi Grazie Grazie mille Fatelo anche a Stefano Rapone A Snod A The Comedy Club Ancora All'ospite E a voi che siete venuti qua stasera Grazie mille a tutti Grazie mille a tutte Ci vediamo alla prossima puntata Ciao Grazie 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 mille a tutti Grazie a tutti